Buonasera signori benvenuti e questa volta non è un bentornati cioè un bentornato in live ma è un benvenuti in questa nuova serie o pokemon ultra luna trash lock fatemi ricondividere il countdown su instagram che ieri per fifa mi sono dimenticato poi piccola introduzione alla serie e poi ci fiondiamo a cercare di capire il tutto non ho ma lo facciamo subito non ho messo un countdown per morti e tentativi quindi vediamo di farlo immediatamente tanto il font so qual è ci si mette un attimo ale eccoci qua merda ho cambiato la categoria ops cioè non ho cambiato la categoria eh aspetta cambio si effettivamente fifa è un po' un problema come categoria pokemon ultra moon sapete quante persone attualmente su twitch mondo stanno streammando pokemon ultra sole e ultra luna esatto 18 no cioè scusatemi quanti spettatori hanno attualmente ho detto una cagata quanti spettatori hanno attualmente pokemon ultra sole e ultra luna 18 saremo forse noi gli eroi del nuovo millennio chi lo sa allora e il counter delle morti ce lo abbiamo e il che secondo me oggi già s'aggiorna sensazione e il counter degli dei tentativi te lo droppo immediatamente oh si grazie per la tab oh si oh si l'alerta è esattamente in mezzo allo schermo magari lo mettiamo qui sotto che ne dite grazie mille dark per il prime benvenuto benvenuto mio padre bene oh si oh si oh si è l'ironia nostra ciao ragazzi come state come state come va noi per il momento bene carlos per il prime ma sì io non so oggi in che condizioni potremmo direttamente in questo momento sto giocando guardando direttamente lo schermo della live e puntualmente fermi puntualmente ho visto un piccolo errore molto meglio molto meglio potrei anche guardare il tutto così sarebbe sarebbe interessante obiettivamente però no vedo lo schermo in basso troppo piccolo quindi leva sta roba thanks allora signori benvenuti ciao ale intanto ci ho detto nella piaga vedo gente signori benvenuti in questa nuova serie che cos'è la trash lock intanto punto 1 avete un comando quindi sfruttatelo punto esclamativo trash lock fondamentalmente è molto semplice la questione hardcore nazzlock classiche le regole dell'hardcore nazzlock se volete fare punto esclamativo hardcore nazzlock c'è il comando anche per quello ma si giocano pokemon scarsi ora le trash lock nel mondo si fanno in svariati modi le si fanno a volte su delle acrom ad esempio pokemon garbage green è una acrom di pokemon verde foglia vi ho fatto un nome a caso che ti forza in un qualche modo giocare una trash lock scegliendo accuratamente solo pokemon scarsi da darti oppure la puoi giocare mettendo un tetto massimo di statistiche base che è quello che facciamo quest'oggi quindi o si potremmo giocare questo hardcore nazzlock sono riconosciuti più o meno unanimamente anche se non sempre come i giochi pokemon più difficili mai realizzati se non altro in david in ambito hardcore nazzlock perché trovare un counter per tutti i dominanti è di base molto difficile o si curiamoci con pokemon che hanno tutti quanti statistiche base più basse dei seguenti pokemon poi vi ringrazio allora i seguenti pokemon che vi sto più a rilencare non so nemmeno quanti siano ottenibili in ultra solo ultraluna ma i seguenti pokemon sono quelli con più statistiche base che potremo utilizzare in tutta l'avventura più di questi non c'è nulla aria addosso charge bug cosmo m del cat il lumai scadabra roseglia volbit wailmer alert troppo alto proviamo a fare così abbasso questo e tiro su il gioco più di questi pokemon qualsiasi può con migliore di questi a livello di bst è bannato ora io ho già risposto a questa cosa qua più volte così mi sembra un po troppo alto l'audio mi dite se è troppo alto l'audio del gioco mi dite se è ok un po forse di abbassarlo un pochino un pelino va bene rinnovato l'abbonamento per 11 mesi c'è un grappo forse sp lo abbassiamo leggermente forse sp adesso recupero le sub datemi un attimo così dovrebbe essere meglio gli alert dovrei averli abbassati quindi al prossimo alert mi fate sapere allora intanto mi recupero un po di abbonamenti io mi sono fermato a dar la mia legata ad oscar music si joker danni grazie mille per l'abbonamento carlos ok si questa è games grazie per l'ottavo mese mega riguardo grazie per il settimo mese smooth boss ct perché è un commissario tecnico grazie per il nonno mese grazie per gli alcuni pericendo capo colpito su malissimo e nick meister grazie per l'undicesimo mese dicevo io l'ho già detto ma lo ripeto per l'ultima figa di volta non ci credo neanche io lo so che dovrà ripetere di nuovo ma si posso giocare poplio posso prendere poplio posso prendere cadabra nel momento in cui cadabra si evolve in alakazam non può molto semplice non posso più usare alakazam quindi non fa testo l'evoluzione finale fa testo le figa di base stats che c'è il pokemon in quel momento ok poplio a 320 di bst si brionna a 420 no primarina 530 530 perché è un primarina sud tirolese peggio mi sento va bene peraltro nel comando punto esclamativo trash lock c'è scritto c'è scritto c'è scritto l'esempio di poplio quindi non avete alcuna scusa posso bloccare le evoluzioni assolutamente sì non c'è problema del resto giocheremo davvero poplio fino a una certa ovviamente sì possiamo bloccare possiamo assolutamente bloccare wishy washi è bannato perché ovviamente quando entra in campo già 620 di bei stats quindi wishy washi non va bene questo sì questo si chiamerebbe buonsenso le mosse z ce stanno le violite non è bannata porco dio e porco il clero tutto quello che non vi sto specificando è legge tutto quanto quello che non ho specificato è legge tutto ogni cosa la scarpa legge le spex sono legge le violite legge gli item sono legge tutto ciò per ventuno che c'è out tranquillo stasera grazie per ventunesimo mese tutto quello che non è bannato dalle regole della hard core nazzlock è legge eccezione fatta per i pokemon sopra il 400 di bei stats molto molto semplice non lo complicate perché non serve bene sì lo so che lo ripeterò all'infinito mi spiace avervi saltato tutta l'intro di pokemon ultrason ultra luna che è molto bella ma avevo necessità di compiere un salvataggio per fare questo in crociera il mio cervello era passato da due pensieri principali il primo era quanto berrò oggi per dare frutto al pacchetto my drinks il secondo era come si mettono le rare candy sui giochi di settima generazione l'ho scoperto qui ci ho fatto è abbastanza semplice basta solo trovare il salvataggio bene ha una piccola precisazione riguardo a questa serie one non so ancora se farò degli highlights non so se farò un riassunto altra precisazione che è venuta in mente che ho visto scritta in chat ovviamente a livello di catture a livello di catture se io vado nell'herbalta e sul primo percorso incontro rai quaza no non è randomizer è un esempio iperbolico se io vado nell'herbalta del percorso 1 e incontro come primo pokemon rai quaza ovviamente non è che ho perso la cattura ammesso che io ci riesca fuggo e cerco di catturare un pokemon che ha statistiche minori questa regola si applica anche perché mi piace sfruttare questa meccanica e anche perché c'è se blai con questa meccanica nei contesti tipo incontro la collina 10 carati carmink 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 è mio padre ma purtroppo ha 500 di bst quello che io posso fare è utilizzare la meccanica delle chain ss per far spawnare dei pokemon in soccorso che magari hanno meno di 400 di bst quindi se io incontro carmink posso decidere di portare avanti la battaglia ovviamente non posso killarlo perché sarebbe la prima sarebbe comunque il primo incontro overall ma posso utilizzare la chain ss per far spawnare se blai quindi la cattura il primo pokemon che trovi in ogni area che soddisfi le tue condizioni perfetto si è in realtà effettivamente allora posso anche ammazzarlo carmink volendo perché avrà un incontro buono perché questa short cut grazie drago bianco per il dodicesimo mese grazie kirito per il prime grazie ronco per un altro prime che si farò finto di aver sentito il messaggio di uno di voi era inquietante contro cazzi ti si vuole il bene crap thanks la sfida sarà super 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 difficile già me lo sento basta iniziamo anche perché adesso è pieno di gazzetta a breve scoprirete lo starter che voglio prendere che in realtà non so quale sia il migliore considerato che faccio ho fatto un ragionamento molto semplice ah ma posso già muovermi pazzesco perché ricordavo tre posti ragazze non è di qua che devo andare mi sanno grazie dungo con kung 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 la prima volta riuscito a dirlo bene me lo ricordo non mi ricordo cosa volevo dire assi essendo che sono di brevissima durata questi starter grazie daryl per il prime io faccio un ragionamento molto a breve termine e il mio breve termine è questo qui a sinistra dove ora non potremo andare c'è una struttura incredibile super divertente che è la scuola allenatori la scuola allenatori all'interno una lotta che in alcornazzolo su questo gioco è la morte che è la lotta con l'insegnante ora io all'insegnante vorrei dare roulette perché se l'insegnante a roulette io sul percorso 1 ho tante catture a disposizione ciao tuono ho tante catture a disposizione per poter gestire roulette tipo batter free per spararne per sparare giusto per fare un nome quindi piglio poplion in più poplio a ancor credo che ci siano degli ancor migliori nella in questo gioco qua e soprattutto rega ricordatevi che ancor come mossa tutto fondo come è molto meno forte rispetto alla terza gen cioè la cpu di settima è in grado di capire ancor molto meglio comunque lo starter sarà proprio non è di qua che doveva andare giusto sì sì era 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 per sicurezza è ancora è molto 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 meno forte di quanto potesse credere detto questo proprio non solo è molto bello come start io adoro proprio tanto quanto mi fa disgusto incineror e tanto quanto mi lascia perplesso prima lina ma io trovo proprio molto carino insieme a roulette gli starter base di questa già mi piacciono parecchio dolci ricordi in questo luogo ragazzi am sì 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 facciamo anche un po di personalizzazione sarà del personaggio non ti preoccupare abbiamo tempo a ovviamente ragazzi nel senso io non prevedo di finirla al primo tentativo a questa sfida anche perché ultrasone come sapete lo conosco il giusto come gioco quindi vedremo di di farlo ovviamente first try ma io non è che assicuro molto sarà anche un ottimo modo per me di conoscere questo gioco in era tantissimo tempo che volevo fare un hardcore nazzlock di ultrasolo ultraluna fatta bene e avevo voglia di sudarmela tantissimo quindi questo è un ottimo modo non vi velocizzo questa cazzina perché per ora va bene così io pensavo che il poco più forte pieno di terma sono settimane da roba del pokéwood sai che i pokemon del pokéwood li ho guardati per fare degli shorts ne uscirà qualcuno la prossima il prossimo mese hanno tutti 600 di bst 100 in ogni stat è una cosa che vorrei fare un giorno è completare tutto il pokéwood perché probabilmente l'ho molto sottovalutato un po come questo gioco qua potrei farci un video sulle cose che ho imparato cose di poco incodiamo ma che ho imparato ad apprezzare tipo questo gioco qua bene posso prendere vogliamo dare dei nickname ragazzi senza non ho voglia di fare a tema quindi se volete diamo dei nickname allora io piglio poplio anche perché voi dovete sapere che la foca è il mio animale preferito vai no 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 senza ricompensa dei punti canale senza ricompensa dei punti canale oddio no in realtà se volete potete usarla senza voglio senza ricompense senza tema no dai voglio farli io voglio farli voglio questa sarà una serie democratica non capitalista quindi potete spammarli tranquillamente senza sprecare punti allora teoricamente potrei prendere il salvataggio andare a vedere le evi belle iv bar e v che avranno i nostri pokemon se ci servirà lo andremo a fare per ora eviterai soprannome allora è una è una foca è una foca blu foca blu foca blu femmina no non darò i nomi dei calciatori dello sport in kyon su fifa per ora teniamo le cose separate non è ancora il momento voglio no voglio dar dei soprannomi fatti come cristo comanda ragazzi perché questo qua potrebbe diventare un cioè questo è una serie un po più dry hard quindi vorrei dare dei soprannomi un po più fighi foca femmina chiuseremo pochissimo peraltro lo chiamo come il mio cane ma ha senso perché se chi mi segue su instagram sa che il mio cane assomiglia una foca quindi tu sarai grace vai anche perché grazie ci sta molto bene con l'idea di prima rena pisa che non sarai mai prima rena grazie marco insomma il presidente ha commentato soddisfatto va bene tutto ma chiedermi di prendere giampaolo mi sembrava eccessivo non non credo che sia andata così non credo che sia andata così e allora di incontrare il cauna dell'isola vai va bene so tutto cucui ormai sono un luminare di alola quante run avrò su su alola in generale avrò non questa sarà la mia quarta run della vita scusatemi guardate come mi ero preparato questa gag guarda come sono monocromatico con la grafica codiaz io dovrei avere come run su questo gioco solo il luna oltre solo il tra luna e la shine lock questa dovrebbe essere la quarta ma ho già le ball per far cattura mi sa di novero avete visto come sono come sono fichissimo con la camicia viola vai poplio andiamo mamma mia che brutto che brutto l'allenatore come vestito su sti giochi fastidio ora me la ricordavo più lunga questa parte del gioco chissà perché allora io vorrei vedere no ok non ho ball quando sottengono le bolle quando posso fare la prima cattura anche perché allora sono scrittate sti incontri per caso capisco va bene questo è sitra che si diverte a trovare ecco se beccassi lui come incontro potrei impazzire in maniera abbastanza importante perché perché non è quello di cui abbiamo bisogno spoiler alert non è quello di cui abbiamo bisogno allora su questi percorsi in generale c'è un pokemon molto 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 ah beh voi bloccate la strada di qua ok perché posso solo andare molto molto forte per una trash lock che non è donald trump è cazzo di caterpi che diventa figa di batter frame e io penso che sia un pokemon se lo becchio ovviamente con insettò chi si intende incredibilmente rotto e se non capisco male a livello di cattura e come funziona questo grazie mille sera per il prime se non ho capito male come funziona a livello di cattura e questo gioco qua vi posso dire che nell'erba dietro oppo di greppo pipus greppo pipus greppo lo starter migliore grazie per il prime nel nell'erba dietro oppo dovrebbe esserci cadapi tipo al 35 per cento una roba del genere ma cazzo una prima volta che ti vedo a o io sono a o vero però dimenticato che apriamo ma non devo affrontarti vero non perderò qui la mia nasa lo che giusto ma anche se lo fosse lui prende lo starter più debole quindi va bene a texture cosa è successo che sembra una meravigliata che ha di strano la texture in che senso è ho aggiunto delle delle in effetti ora ora che noto è un po è un po strano hanno tipo si va bene t'affronto è un po ciao l'effetto attorno vero c'era c'era un effetto aveva tipo aveva tipo laura adesso adesso provo a smanettare un pochino io allora tecnicamente la nasa non è ancora iniziata perché non ci sono le bolle io ho sempre ragionato così ma non penso che va almeno imbatti in battaglia è perfetta però quindi bene ok si ho pistolato questo lotto qua penso che sia impossibile da perdere pure se puoi non laggare a caso il gioco per piacere allora una piccola informazione che dovete sapere riguardo a sitra il ds con cui sto giocando velocizzare è molto fastidioso perché non puoi velocizzare con un tasto e avere una velocizzazione fissa ma quello che vuoi fare è questo cioè aumentare la dismisura attualmente stiamo andando a 500 volte il gioco come potete vedere oppure ridurla in questo momento stiamo andando al 5 per cento non so se oh si oh si oh si quindi è un po' rognosa non velocizzerò troppissimo o almeno vorrei vedere grazie Zane si ho visto e GG per lui grazie Kanjiro per il Prime e siamo già a 1000 sub beh io uno ci prova a scendere sotto le 1000 sub ma con una community così bella è impossibile prima lecchinata di culo che avevo fatto penso in 4 anni di streaming eh si c'ha effettivamente vediamo se da questa inquadratura qua vediamo se pigiando qualcosa vediamo cosa succede se faccio così meglio ti direi giusto mi sembra sensibilmente era era un filtro che avevo messo che in alcune angolazioni trollava cioè se lo rimetto c'è questa linea qua di merda questo qua è un troiaio è buono questo qua è un troiaio a me non sembra migliorato eh ma eh ne si possa fare molto nessuno viene fuori un disastro oddio neanche troppo in realtà l'unica cosa è che non si vedono le linee così se faccio così eh così sai cos'è sono eh così è diventato qualità DS va bene però è un po' è un po' sgranato è un po' come se fosse attivo il 3D fa vedere se no disabilitato c'è scritto ho tolto una spunta vediamo se ma credo che sia identico ma voi esattamente cos'è che vedete cioè l'unica cosa è un po' disfocato attorno ai personaggi no cioè descrivetemi descrivetemi quello che non vi torna oh si oh si oldrain 96 ha rinnovato l'abbonamento per 15 mesi buongiorno ninja da tavola ah no ho sbagliato grande crappo grazie oldrain le scritte sfocate ma non sono sfocate raga sfocati ma non sono sfocati acqua è trasparente ma state trolla a me non sembra così male ragazzi io l'unica cosa che noto è che attorno ai personaggi è tutto un filino sfocato ma scritte sfocate ve le state inventate andiamo a provare ad abbassare sto forse se fai pigio automatica magari così dovrei aver risolto eh ah vabbè il cazzo che è forse così è un attimino più più normale se un altro li vedo meno sì dai così così dovrebbe andar meglio in teoria ho tolto ogni filtro vai non mi sembrava così impattante come roba cioè lo notavo ma va bene comunque così dovrebbe essere meglio ho l'unica cosa tanto ora non ho le ball giusto voglio vedere in battaglia perché magari sembra figo ovunque ma in battaglia è una merda questa cosa deve succedere ragazzi se becchiamo questo popcorn qua abbiamo un early game molto più semplice fai vedere le scritte in battaglia siamo un po' cursate ma neanche troppo dai va bene magari lo streaming si nota di più eh beh potrebbe essere magari però vabbè comunque alla fine così va bene oh sì oh sì oh sì giusto le scritte in battaglia non mi fanno impazzire però dovrebbe andare bene più tempi merda c'è pure sta roba qua questo se volve per amici eh ma che se volve de che se volve de che Giovanni che non puoi usarlo la panna scusatemi che da panni qua dentro purtroppo grazie skinny pete mi piace pensare che il tuo nome sia legato alle pete cioè alle scorreggia e questo è il vostro streamer eppure oh radata guts potrebbe inventarsi qualcosa bisogna capire se c'è un modo per farcelo burnare in maniera safe burnare o avvelenare in maniera safe dovrebbe essere possibile questo fake out più last resort e molto utility non lo vedrei così male intendi baneri tu fai fake out ultima scelta sì ok bisogna vedere le base stats detto così wallier tutto e niente non ricordavo la host notturno di questo posto villaggio lili quello è il figa di altare pazzo dove poi dovrò affrontare sia au che cazzo di alan molto silenzioso estremamente silenzioso oh sì oh sì oh sì aspetta quello che vuoi allora grazie ma non non penso che sia arrivato quel momento del mese ah no perché è la sabo che ho capito allora sì allora puoi non state una cattura allora tenderei a considerarla una non cattura almeno c'è nel senso non una cattura del percorso 1 a sto giro perché altrimenti abbiamo pochissime catture altrimenti la prima cattura è a au oli ed è un po' un incubo secondo me dover affrontare gli allenatori e super il cap quindi un'altra cattura anche solo per ragione di cap io la farei sul percorso 1 consideriamo lo starter un pokemon gifted e va bene abbiamo un po' più deciso insomma lo considererei faithful encounter come si fa con gli starter di radical red per dire bella natura scusatemi io ho una domanda tecnica però ma se io volessi curare il mio po non ci sono battaglie forse vero forse posso tirare dritto da da Lilia tranquillamente ma vabbè andiamo contro le crossbar sarà attuabile la tante carattata focalnastro rimonte attacco rapido da un punto di vista regolamentale sì non so se è la migliore che abbiamo perché magari il focalnastro non lo vuoi sprecare però in caso sì certo non so nemmeno se c'è il focalnastro in questo gioco qua non so se lo tieni in tempo c'è un comando regole c'è letteralmente scritto a schermo punto escomativo trash lock quindi sì vai cosmo non sarà mai giocabile vero e soprattutto ha senso giocarlo ma non penso che sia ottenibile prelega non mi risulta proprio vai la corsa di Lilia Lilia la lascia molto desiderata la saggia la prendi alla quarta isola da un allenatore tossico ah beh quel tipo di allenatore ho capito che intende beh ci ragioneremo ci ragioneremo questa cazzina è molto carina cioè la parte che sta per arrivare intendo Xona tu ovviamente sei delegato a darmi informazioni se schippo robe utili quante BST hanno le prime EVO degli Star Test se intendi Brion 420 è bannata chiedi se è tutto ok chi sei un po' scortese salva Nebulino on y va a salverle Nebulon l'introduzione di questo gioco è infinita arrivo sono io un allenatore solo Pokémon con base stats bassissime ah era lei il mio centro Pokémon perfetto buono sapersi non mi sembra non mi sembra di dover combattere qualcosa ma forse 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 invece si forse invece si non credo che sia un dramma velocezza un po' salotto per favore grazie leggermente un tocchettino di velocità non fa male eh merda sarebbe bello se questi Spiro li potessi catturare se ti avessero dato delle bolle prima sarebbe stato per nulla male era una cattura in più e Spiro non è un po' Pokémon malvagio anche se non lo evolvi in Spiro ovviamente cosa che noi ovviamente non possiamo fare perché Spiro ho 4-4-2 4-4-2 Cersei Cosmi e mi devono menare anche altri Pokémon ora qua possiamo anche ridurla la velocità per quanto mi riguarda dai ecco una cosa che non mi è mai piaciuta particolarmente di Usum sono le inquadrature di le inquadrature il fatto che questo gioco non abbia a volte la camera la la camera mobile mi fa strano devo dire detto questo è meglio questo che tutto quello che hanno fatto col mondo aperto a livello tecnico con gli Spiro non penso che siano sopravvissuti al massacro grazie Tapu Cocaina come sono i Tapu versione parodistica ovviamente c'è Tapu Cocaina c'è Tapu Leleadani c'è Tapu Fininvest e Tapu Bulu cos'è? cos'è Tapu Bulu? Tapu Bullismo Tapu Sburo Tapu Fini Alleanza Nazionale ma non credo che sia che lo chiameremo così Tapu Red Bull qualcosa ci inventeremo vai grazie Lilian tieniti il tuo rubino che ci farà penare per tutta la serie sappilo ecco 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 ho già il cristallo giusto? vai le mosse Z sono ovviamente giocabili ho già le base stats basse le mosse Z potrebbero essere un ottimo modo per riuscire ad andare avanti non avrebbe senso privarcene già abbiamo un un inculata importante non non bannerò le mosse Z anche perché sono una battaglia e con poca tendenzialmente scarsi anzi pianificarle anzi le mosse Z esteticamente non mi piacciono ma devo dire che come meccanica non la trovo brutta in Nazlock le nostre ancora di salvezza saranno le mosse Z le volcondensa forse le specs le scarf ah piccola curiosità c'è un motivo se ho portato ultra luna anziché ultra sole l'ho già detto ma lo ripeterò ed è per impedirmi di giocare di nuovo cottoni prankster perché l'ho già giocato in pokemon ultra sole shiny lock e sappiamo quanto cazzo è forte quella merda lì quindi al posto di cotto ne abbiamo petilil completamente vedo che è trovato lì è la mia assistente non farò battute quindi ericolilca uno sbaglio il signor è andato via dicendo che avevo un impegno ora mentre aspettavo ho fatto un salto al sentiero ma malo capisco un cico malo il sentiero malo disescriviti capisco e così siete incontrati che coincidenza li avete visto perché il capo è arrivato ieri da un sacco di cose da imparare ma tu lo aiuterai vero? sì zona professore è già colina 10 carati non credo che sia una cattura vero? lei non è colina 10 carati sono abbastanza sicuro perché se no sarebbe una cattura eccolo qui ala gigante completamente mostruoso quest'uomo tutto bene ma è esploso un ponte considera mi piace l'idea che nessuno parli di questo irreparabile danno fatto alla comunità cioè il fatto che il tempio di Tapu Koko non è più raggiungibile e poi decrola a volte sottovaluto i giochi di Pokemon ne hanno appena parlato Tapu Koko ti ha notato il protettore dell'isola è piuttosto capriccioso devi averlo colpito con il è per la cocaina Kukui questo ragazzo è coraggioso è un cuore d'oro è già un ottimo allenatore thanks non lo penserai quando la Lega Poco mi vedrai arrivare con aria ad osso penso che non sarai d'accordo ciao Kukui benvenuto hai la sera libera sium hai smesso di scopare è l'unica spiegazione come stai bello come la va Krapu tiene il Pokédex mi dai anche le ball no grazie puoi tornare a casa se vuoi mi dai le ball voglio provare voglio provare a prendere i Caterpie aspetta Krapu no non voglio affrontarti non voglio affrontarti che poi l'unica cosa che potrei fare effettivamente è livellare il mio il mio Pokémon ma non ho alcun modo per prepararmi a queste lotte sono solo un Pokémon cosa devo fare e do di essere salvato da Capu da Capu da Tapu Cocom si non solo ti ha salvato ti ha anche dato la pietra che non era forse stato il destino portati qui da Lola Krapu ti dispiacerebbe se tenessi la pietra per un po' te la restituisco domani promesso stai sereno come si posiziona questo gioco cronologicamente rispetto a Sole e Luna è un what if di Sole e Luna allora il termine carino è what if il termine meno carino è c'era voglia di fare moltissimi soldi quindi abbiamo tagliato un sacco di contenuto dal gioco lo abbiamo pubblicato un anno prima e poi abbiamo fatto uscire il gioco integrale risultato la gente odia questi giochi e non Sole e Luna impossibile essere intelligenti vai torniamo indietro ciao Cosmog che bello che è Cosmog Pokémon estremamente carino io ragazzi inizio a velocizzare la mia pazienza si è sorrita siamo a 140% vai è impossibile per un qui superiore a 2 io mi chiedo perché se c'è un gioco bello e un gioco brutto la gente si incazza con il gioco brutto scusatemi ho sbagliato anch'io c'è un qui basso perché se c'è un gioco bello e un gioco brutto la gente si incazza con il gioco bello lamentati del gioco brutto potete spammare Crapo Big Brain perché effettivamente ho un po' trollato ma volendo tra l'altro ho trollato volendo sembrare superiore quindi Ale non vorrei se c'era poco da solo si è affettuoso vai se lui non era decente finché era uscito Usum oh si oh si oh si si 2,2,3,3 ha rinnovato l'abbonamento per 16 si circa non proprio cioè nel senso aveva alcuni pregi di questo gioco ma insomma è bello una brutta bugia che è una bella verità grazie ottimo vai grazie cucui non è possibile per me avere delle pokeball voglio spiegarti due cose che potrebbero servire di ora che sei diventato un negatore partiamo dalle basi hop 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 spoiler del rivale di spade e scudo clamoroso non penso vai Crapo soprannominiamo mai poco qualcuno mi devi due calci e te lo ridevo sport in kyon sei solamente il 56esimo che ci provo oggi la mia risposta è come le altre 56 volte no vai alem come ci si comporta con wishiwashi ahhh gli si urla nel muso così ci si comporta penso che tu mi sia per darle ball no non mi darle ball ora ma poi devo attraversare l'erba no è vero chargeabug è un ottimo pokemon da giocare con un evil condensa probabilmente cioè non so quanto potrebbe effettivamente essere d'aiuto però comunque no ovviamente con wishiwashi essendo che è porco di dio il pokemon più rotto del mondo ci si comporta che è bannato siccome entra in campo con 620 di bst sarebbe un po' stupido giocare con solo wishiwashi tutto il gioco vai evil chargeabug non è male si no nemmeno secondo me anzi è ottimo è che non conosco troppo bene il pokemon quindi allora io apprezzo le pokeball ma io non voglio fare la cattura 5 pozioni va bene ragazzi ci vuole buon senso quando pensi a delle regole di una sfida ci vuole buon senso no ti prego allora sapete qual è il problema qua che i percorsi di pokemon sole e luna ultra sole e ultra luna funziona in maniera un po' particolare cioè non in tutte le aree di un percorso ci sono le stesse catture per dire percorso 1 mele mele sul percorso 1 di mele mele ci sono un tot di aree c'è il percorso 1 che è la periferia di awoli c'è il percorso 1 vado sul trasole minchia quante aree ci sono prima 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 del festival di lili poco non posso riuscire a dare poco lanciate al giocatore ok interessante allora il problema è che è che io avevo una zona due zone erbose accanto a lili c'è stava caterpi al 35% che era la mia pic dove abbiamo trovato anche buneri per intenderci il primo incontro è scriptato sempre con lo stesso mon ah siete seri se è scriptato allora non vale siete sicuri giuro chi è che dovrebbe uscire garantito grab in altra non è altra poi pagina di grazie tra l'altro ma in teoria non dovrebbe spawnare proprio al 4 sta roba ah no si zona erbosa convista sulla baia immagino che sia questa si erano corretti mi hanno detto al 4 ma non c'è una fonte ufficiale che dice sta cagata grazie frank per il ride benvenuti ragazzi stiamo cercando di capire delle cose vediamo su quella inglese datemi un secondo voglio vedere voglio esserne sicuro la fonte ufficiale sta sempre a guardare il gameplay di tongs potrebbe essere un'ipotesi che è un casino orientarsi sui percorsi di sto gioco eeeh pokemon central nebulbapidia riportano sta cosa tanti saltano la cattura se non scrive va bene senti va fanculo la schifo fanculo grazie grazie miller senti vitrasto la consideriamo un test il resto il resto il resto ragrabian davvero basta che non ne becco un altro ora vorrei eh sì però ho capito oh sì oh sì c'è qualcosa di scriptato anche qua che devo sapere grazie ferdinando per il prime 12 mesi un anno inserire bestemmia ciao crappo c'è altro di scriptato o da qui lo prendiamo nel culo e basta ho sbagliato ho sbagliato ovviamente questa meccanica qui è bannata ovviamente questa meccanica qui è bannata puoi uscire fuori fuori bro come si esce sono aiuto sono aiuto non riesco ad uscire non mi preme il tasto non mi preme il tasto non va al touch screen non me lo preme non funziona non non funziona coici sottolineatura 13 ha subato al canale stupo stai zitto dai porco di dio ho fatto da solo uh salvi ok siamo salvi oh cazzo ma ci sono già di allenatori mi fate fare la cattura del mio caterby per favore volevo dare una rare candy 7 mi auguro che basti per sti fallete vai affronta lassù ale in qualche modo ci siamo salvati dal popolo pazzo in culo bunere oh si deve far danni sta roba oh si posso stare tranquillo che mo sarà grazie Leo per il decimo mese buonasera e l'altra ok mamma mia le porgo i miei saluti e le auguro veloce sta roba grazie mille per la sable ok jasmena ciao allora provo a ribadire il concetto affronto lui perché non voglio andare nell'erba alta qua nelle zone d'erba vicino dove abbiamo trovato bunere per intenderci per intenderci il salotto di vulpix ha rinnovato l'abbonamento c'è caterpi al 35% che è molto buono molto buono grazie salotto di vulpix per il prime benvenuto allora giù e di nuovo giù butterfree è decisamente forte che abbiamo assolutamente bisogno di butterfree grazie marco per il prime la natura 21 ha rinnovato l'abbonamento per 26 mesi ciao giù come va approfitto per farti i complimenti per la programmazione e per la live di thanks non sei l'unico che l'ha fatto peraltro sono contento che l'abbiate apprezzata quindi di qua non posso andare ora perché questo gioco è pilotato va bene la maria sgala grazie per il prime allora aspettate ragazzi io lo so che vedo anche 300.000 messaggi evidenziati ma scrivete i papiri e io sto cercando di capire la mia stessa vita quindi sono un attimino sul chi va là vedi tirar giù questo qua tanto non penso che ci sia niente di preoccupante comunque su reddito trovo ciò much like the first wild encounter in xy on the grabbin that you encounter on route 1 just after you get your pokemon si scripted unlike in xy however you can't encounter any pokemon in the grass until you battle the grabbin ok d'accordo va bene chiaro quindi sì abbiamo fatto bene a schipparla comunque vabbè alla peggio senti l'abbiamo schippata nel dubbio voglio dire anche perché poi dopo non abbiamo incontrato nessun altro pokemon peraltro grabbin era una buona cattura probabilmente la seconda migliore sarebbe stata dopo dopo caterpie qua ok allora attiva l'ultrapattuglia che so già di doverlo fare vai eccole qua grandi personaggi l'ultrapattuglia è veramente contrastante a livello di feeling tanto la loro introduzione apporta interesse verso questa trama tanto quanto il loro finale ti fa dire porca troia ma perché allora qui e diminuirei la velocità io non riesco a capire perché quando utilizzo citra mi lagga lo schermo io ho un computer a 3.000 euro comunque 3.000 euro allora in questa zona two fields of grass near a sticky town and field of grass on western path quindi questo qua sicuramente credo questo e questo dovrebbero avere caterpie al 35% ratatalola al 35% di notte anche se noi attualmente forse siamo considerati in giorno quindi in caso sarebbe yungus e buneri al 30% io premo per ridurre icona e ci metto un secondo a farlo ora se becchiamo caterpie molto sto cercando di allacciarmi intanto in questo momento siamo 666 spettatori comunque odio 6 caterpie bene se buneri forse ci possiamo inventare qualcosa sul lungo termine se yungus io non ricordo l'abilità ciao bea io non ricordo l'abilità di yungus ma non credo che sia un gran pokemon vai fra ti prego 35% me può andar bene per una volta in vita allora avremo probabilmente un'altra zona in cui catturare butterfree ma butterfree sarebbe stato molto molto utile bene e in caso sappiate che abbiamo tradato un grabbin per baneri mi fai vedere il learn set di sta roba e le statistiche che non conosco buneri allora buneri ha 66 di autoconfittico 85 di speed ok in settima generazione botta frustrazione prevedente di giascuto splash occhioni tenere calcio salto staffetta tramite accoppiamento bruciapelo quindi chi diceva bruciapelo ultima scelta clown sì immagino che con occhioni teneri possa inventarsi qualcosa beh abbiamo frustrazione se non altro qualcosa potrebbe anche succedere in effetti bene questo è il nostro primo pokemon potete trovare un soprannome possiamo trovare un soprannome coniglietto maschio normale non molto non molto bugs bugs è carino sai perché perché noi volevamo cercare un coleottero ci abbiamo bug vai va bene che ridere si freddi raga l'ho capita pazzesco la maturità di una community eccoci qua siamo noi avevo schippato un item se non sbaglio non penso che sia roba utile soprattutto in alco un altro stava la prova come minimo adesso entro in questa erbata dove caterpist al 10% e per pura sfidolo grazie per il prime fammi vedere di chiare su sta roba un piattura dialettale del mio nome che tra l'altro è lo stesso tuo interessante ottimo dettaglio della tua lord non lo sapevo adesso controllo l'abilità regalo porto al 7 lo dovrò portare al 10 sicuramente resistenza eccoci qua vero partigiano incredibile abbiamo splash non abbiamo frustrazione ho visto beh benissimo allora il ricordo in questo gioco qua mi sembra che sia letteralmente alla lega pokemon quindi non male potrei usarlo per affrontare il roulette in caso bruciarmelo lì fa vedere come è messo di natura in patch vai bel pokemon wow che esordio che inizio sorprendente eclatante quasi vai io non so chi ha detto che baneri potrebbe essere un buon pokemon ma non so cosa mi sia passato per la mente non non credo potremmo utilizzarlo come cadavere devo capire un attimino i cap dopo sta lotta qua perché allora io sicuramente i cap sono oh si i cauna e i dominanti oh si boom shoes il dominante che qui forse è rati gate di alora a che livello ha grazie cap per il diciassettesimo mese benvenuto rati gate sta al 12 ok quindi se mi porto tipo uno dei due uno di questi due qua al 10 per far la battaglia contro l'insegnante è onesto no certo di mezzo c'è la battaglia con il capitano di cui non ricordo attualmente il nome però ora devo affrontare au fammi vedere come è messo au ultrasolo e ultraluna ma questa è la prima lotta questa è la seconda c'ha p2 elite ma in linea teorica posso rimanere anche al 7 in linea teorica starto con bug che lui starta con pichu e poi switch su poplio che si dovrebbe gestire litten ora è ufficialmente iniziata la natural quindi se perdo un po' che non sono cazze vai si mi hanno spiegato la festa nelle 35 run precedenti bene liam la recluta la bellezza ma è anche comunque delle catture no vabbè da avere delle catture ce le ho tra l'altro sul percorso 2 mi sembra sia un'altra chance di ottenere butterfree raga butterfree sarebbe veramente forte perché un po' che mette a nanna fa bene sul secondo dominante probabilmente cioè è un utility davvero importante però se io non pesco le catture mai nella vita ci posso fare il giusto io vai si è andato delle caramelle per livellare si 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 abbiamo tutte le rare candy cioè entravi pokemon al 7 qua in teoria dovrebbe andare bene pikachu con elettropala si può prendere prima della lega non ne ho idea non ne ho la più palida idea non penso onestamente vai se ho scelto proprio poplio per qualche motivo particolare in teoria si era perché ho un matchup più facile alla lega eh si scusami alla lega alla scuola allenatori se avessi avuto butterfree turns out che dobbiamo giocare con buneri che comunque il suo l'ha fatto no par dai comunque un po' con un buon attacco fisico quindi early game qualcosa può dire in più ha resistenza e abbiamo occhioni temeri temeri contro il dominante oh devo impostare lo stile fisso ricordatemelo ehm credo di essere safe da un crit un hit io lo posso fare ok ora abbracere crit non ne sono più così sicuro manda grace bene io lo butto lì sul percorso dove ci sta smir guarda è bel cancro bel pokemon bel botta pedali il crit in questa gen è 1.5 ragazzi quindi sul crit possiamo legittimamente temerlo un filo di meno dimmi che è giù per fora vabbè comunque è gg anche crit dovremmo reggere sì è anche vero che era 1.5 vai grazie grafica in battaglia è molto bella con con questo filtro incantavoce buona incantavoce vai è comunque una folletta non so se ha delle utilità particolari forse contro il team scald vai è il primo è andato scommetto anche tabu coco eccolo guai si fa sentire il bro cos'è che mi dai il braciale o la perfetto super cerchio z dovrà essere abbastanza centrale eh ve lo dico le mosse z dovremmo dovremmo lodarle sì il giro delle isole dai eee questa introduzione qua ce la siamo fatta tutta leggendo tutto quanto nella shiny lock di pokemon ultra sola direi che ultra sola o oggi non so parlare ragazzi è impressionante vabbè ci sta che vi devo dire è così cioè non so parlare di base ma oggi in particolare devo dire che vai grazie di poco un ultra sole volevo dire direi che arrivati a questo punto possiamo schippare tutte queste intro folli nel culo vai ciao lì attacco poco eccezionale sì è affatto di cocaina ti ho detto è per forza quello sì non ho visto quello cosa ti ho risposto oh sì torniamo a casa sì grazie io ero un umi per il sedicesimo mese siamo a 1010 abbonati alti livelli di aura durante questa particolare festa non mi sorprende il supercirco z e tapu goko sono avvolti da una grande luce come già verificato in ricerche precedenti che tipo di ricerche precedenti da tapu goko letteralmente scoperto a più pare capiamo ciao ciao posso prenderlo come cattura non mi dispiagerebbe un miao tecnico hai tolto splash splash z poteva avere non ci ho pensato cos'è che faceva splash z nel concreto so che aveva un senso diventava andava più 3 di attacco forse qualche mezzo senso ce l'avrebbe avuto detto questo se la mia call migliore è darmi un più 3 d'attacco su su buneri ragazzi vuol dire che c'è un problema devo fare anche l'episodio di rainbow rocket ma magari come come dlc della serie vediamo potrebbe provare ciao liliam posso andare avanti nel gioco no perché devo andare giù da cucù e accompagnarsi al laboratorio ma arrivo è la tua paghetta grazie thanks cosa che mi ha dato concretamente davvero dei soldi io sono lì lì a sì lì a confermo sono così emozionata per te vai divertiti comunale se è stato divertente mi dice se vai e divertiti con lo panni però cioè nel senso a me a me avrebbe fatto sorridere sì va bene che il laboratorio del professore dopo l'erba alta repellente me ne dai uno mi vuoi sapere uno no vero potrei misterioso un'altra ero in pericolo ah beh per chi non lo sapesse sì era in pericolo c'era la cazzina iniziale ma l'ho letteralmente schippata per metterle nel candy priorità dai bro è un figa è un figa di saltello certo è così da 25 anni vai mettiamo lo stile fisso voilà opzioni velocità testo veloce non sostituire invio automatico al box ma di base sì vai bene stiamo procedendo questo qua confermate che non è una zona di cattura giusto la collina di agicrati se è possibile la voglio tenere perché poi dopo lì dentro c'è sepplai quindi vorrei tenerla per più avanti ma qui ci sono allenatori vabbè sblocca questa roba qua giusto me l'ho dimenticato del dettaglio che lui si fa picchiare dai pokemon però se ci sono quanti tentativi pensi di farla non te lo so dire carlos perché non non conosco così bene questo gioco e non so fino a che punto incontrerò difficoltà ve la vedo dura farla al primo tentativo onestamente però potrebbe anche succedere è la verità è che non lo so c'è qualche pokemon forte bellissimo l'acquario con l'avdisc che però è palesemente morto perché fa dei movimenti che non sono normali vai tieni il pokédex è sempre percorso uno è unlucky allora abbiamo pochissime catture a mele mele specie prima del dominante se non sbaglio ne abbiamo quattro non di più sono il meglio mistero potere roto ho sviluppato un pokédex questo qua è stata l'introduzione di questa roba qua che poi purtroppo ci ha perseguitato vai va bene eccoci qua questo è un incubo è un incubo a cielo aperto questo pokemon ragazzi è proprio carburante per incubi rotom il rotom è rinnovato l'abbonamento per tre mesi ovviamente sono bannati i poteri o i superpoteri di rotom il sesso con rotom tutte queste robe qua non so nemmeno cosa ti ha risposto ti passerà guarda dove ho trovato prossima destinazione potrei anche consultare la mappa di alora ecco questa è una cosa intelligente vai se questi giochi hanno un difetto è che sono super lenti su queste cose cioè questa scena in cui hop deve guardarsi attorno perché perché mi spieghi perché qual è la logica di rallentare il tutto così bene ci siamo ora posso salire qua non mi ricordo cosa c'era un ventilatore un Markrow una bambola di Clefairy un trusso e un portalenti il diario di Lilia c'è mai un momento in cui si può forse non è una buona idea c'è mai un momento in cui oh ma qua c'è un libro no c'è mai un momento in cui si può esplorare questa roba guai e scoprire qualcosa non penso vero cazzo di Snubble mamma mia se ti fregherei volentieri dei Pokémon fratello guarda che bello qua fuori non l'avevo mai notato bello questa parte qui questa è la casa di Ui graficamente di Cucui scusatemi graficamente è molto carina Ui al Cristo beh questa è una parte importante è calata l'oscurità ma cosa è successo è pazzasco è un'eclise solare qualcosa di aver coperto momentaneamente il sole e ha previsto un'eclise solare oggi beh non importa comunque di buon auspicio voglio dire che porta fortuna nella storia dell'umanità non è stato così però ok sì questa qua è la lore dell'oscurità le persone poco di allora si servivano della luce per scacciare le tenere si dice che questo episodio sia l'origine del giro delle isole dell'usanza di raccogliere cristalli Z crap dato che il super cerchio Z perché non ne approfitti per raccogliere cristalli Z beh la prima cosa che farò in questa avventura è cercare quanti più cristalli Z possibili perché altrimenti si perde facile quest'oggi allora senti un attimo io vorrei che fosse Buneri a salire di livello oddio in realtà lo voglio davvero nel senso Buneri contro il dominante potrebbe essere una buona colla che livello è questo sei perché ha occhioni teneri ora affidarsi a occhioni teneri è un incubo in Nazlock ecco ma io non vedo molte altre uscite sinceramente ma dovremmo reggere crit secondo me perfetto vai ciao cioè obiettivamente Buneri beh comunque lo voglio portare per mi serve comunque lui al 10 in effetti per la battaglia con il il roulette della scuola potevo non darla questa pozione ma sono pigro allora evito tutta l'erba alta che non ci interessa gli item li raccolgo ma fino a una certa e poi a una certa penso di smettere qua se non sbaglio c'è Slowpoke o Pokémon Slowpoke Inkaia e Wingull dovrebbero esserci che Slowpoke è un'idea per una cattura però in realtà nel momento in cui non può diventare Slowbro è abbastanza inutile Buneri si evolve tramite Friendship si Legend Buneri si evolve tramite Friendship ovviamente non essendoci di mezzo cioè essendoci di mezzo una regola che ci impedisce di evolvere Buneri cioè sostanzialmente inutile sapere se si evolve per Friendship oppure no perché la pagna è bannata gli utilitisti del Poké e Pellago del Festival sono bannate sì direi di sì direi di sì come come bannerei in una Nasroc di nero e bianco la Galleria Solidarietà per dire direi direi di sì in Kayon qualche tipo di utiliti per te no non penso ci sto pensando non mi viene in mente nulla secondo voi può aver senso puoi bloccar l'evo sì ovviamente ragazzi certo che posso bloccar l'evo che la faccio mi brucio i Pokémon a caso mi sembra un po' too much sinceramente ok ma sbaglio ma infatti ma all'inizio del gioco c'era una una prospettiva un'inquadratura diversa da fuck bro da fuck di qua se non sbaglio qua quando avremo forza con Taurus dovrebbero esserci degli oggetti mezzo utili però non mi ricordo potrebbe essere o forse era una questione di catture che avevo visto sì 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 mi curo vai Inkai con gli screen e la sua abilità è stato fortissimo in una mia Nazlock ok cioè perché dici nonostante sia Inkai con troppo forte può aver senso sotto sopra utile contro lì che hanno ah beh c'è sotto sopra sotto sopra contro i dominanti è interessante c'è Manjelax e Slash Dunsper nella zona con Tauros ok però correggimi se sbaglio Dunsper è sopra le 400 poi comunque non possiamo catturarlo Manjelax sarebbe sotto le 400 no è sopra vero le 405 quella roba quindi non un gran che mai scuola per allenatori qua dobbiamo affrontare un po' di robe e dice il Tauros di Ala impazzito vai per il resto una pepita ma ok allora niente di utile percorso 1 scuola allenatori quindi questa qua no non è una zona di cattura perché è sempre percorso 1 la scelta di fare tutta questa zona gigante percorso 1 è terribile per una Nazlock tappo obbligatorio per gli allenatori evviva che bello e questo è il ragazzo di cui parlava crappo è un allenatore molto promettente non esiti a metterlo alla prova 4 allenatori e un saluto romano ci sta l'esperienza di cui per tesoro ciò che siamo in tema di esperienza condividi si poteva già disattivare in questo gioco cioè si poteva già si poteva ancora disattivare si disattiva che con il level cap è un incubo sta roba allora va bene dobbiamo affrontare 4 allenatori tenderei a farlo con bug e vedere un po' come vanno le cose bonsrai insomma e niente cambio di programma mi sa che switcherò dentro non penso non penso che buneri abbia le competenze per gestire questa situazione switcha e manda grace vai grazie a diversione di suotiping la prima isola è stata facilissima oddio beh in effetti beh oddio contro raticate non lo vedo benissimo dovrei guardarlo meglio in kai nel caso potrebbe però comunque sono convinto che butterfree sia troppo utile c'è butterfree secondo me è uno dei pokemon più forti che potremmo pescare mi dispiacerebbe molto non pescarlo mamma mia quanto ho livellato ragazzi forse ho detto male ma va che la scuola è una zona a parte dilano dylan no non è vero tranquillo ti stai sbagliando non è vero non è una zona a parte se si chiama percorso 1 scuola allenatori evidentemente volevo solo aprire la mappa Rodom non è una scuola a parte vai a controllare e scoprirai che non lo è è una sottozona e quindi non lo è è come sono come le aree della zona safari quindi hai sentito benissimo semplicemente ho ragione io la follia vai bug è il tuo momentum però no bonesline no cosa che è? sono il più forte tipo io quando parlo con voi ma anche dentro la scuola si trova sta gente oh ok rapido artiglio non penso che abbia un senso cioè nel senso non penso che abbia senso puntare su sta roba qua però manco malaccio non mi ricordo dove sono gli allenatori di qua c'è un'altra zona oh un'altra zona questa qua è chiaramente perché è abbastanza lontana dalla scuola allenatori quindi vai qua se non sbaglio c'è Zorua come cattura vero? vai sei tu vero? veleno gas oh chissà che cosa giocherà questo bambino martino eccoci qua e Zorua qui come cattura non sarebbe male in effetti eh però credo che tu sia credo di essere abbastanza forzato a fare la cattura subito sul percorso 1 perché altrimenti A.U. lo fai nel mondo dei sogni cioè oddio potresti anche provare a farlo A.U. però sai c'è i Picchu cioè lui c'ha Picchu forse dovresti valutare di non prendere Popolo e provare qui a pigliare Zorua perché ad esempio da quello che so Zorua è una call è una insta win contro l'ultra necrozma però secondo me ne abbiamo più di altre cioè ne abbiamo ne abbiamo tante di call per necrozma anche solo con chain di sac non lo so vedremo ma ora devo fare il tizio immagino perché poi la quarta allenatrice sarà la la tizia matta no? chi mi manca? ci sembra che serve buonissimo ah beh è vero effettivamente se bly prankster è la mia è la mia call grazie di bube per le 5 sabbere regalate vediamo se tu mi sembri abbastanza ma caraggio è il mio metapode penso di sapere qual è la lord di questa allenatrice grazie mille bube per le 5 sabbere regalate pronti a vedere questo metapode curarsi con una baccarancia per allungare in maniera assolutamente inutile questa Battaglia Velocizziamo Già mi viene un infarto Come sto? Bene, bene, bene Tutto bene Anche se solo con i nervi E fior di pelle Perché questa sfida Già mi sta Non ci credo È arrivata la sabbia In regalo al dreddone Ma pensa a te Buono, buono Ci sta Ha senso Senti Hai solo rafforzatore Questa battaglia qua Senza velocizzatore Io Come si fa a fare questa battaglia Senza velocizzatore Ragazzi Santo Dio Come abbiamo fatto Su console Critando suppongo Non è che c'è Un altro modo Seblai può avere L'alentatore anche Vero Anzi forse È solo mega Seblai Che ha prankster Ora che ci penso Ho detto una cagata In generale Comunque Seblai È un buon po' Vai Vediamo di gestire lui Eccans Ah merda Intimidate Ouch Livello 8 Switch Pregs era la hidden del normale Stai scherzando? Che lecca mi ha tirato? No Contro switch Ok Merda Ma questo è forte Nel culo Vabbè senza crit Dovrei vincere Wow 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 Doppio crit Così Ci sta Oh bella Quora di leona Puoi imparare Vanere Doppio crit Più dot Non male Niente male Avevo bisogno di curarmi In realtà Avevo sbagliato Thanks Ehm Ehm Proprio aspetterei Un secondino Probabilmente tirarne uno Non è una pessima idea Ragazzi Andiamo una bacca arancia Qui non lo possiamo andare a banere Perché c'è impaccio Ovviamente Thanks Ehm Non so se ha senso tirarne uno O andare di botta Ma credo che sul lungo termine Non sia una pessima idea Cioè botta potrebbe essere due hit La sensazione Dopo un cuore di leona Oh questo qua c'ha un roulette al 10 Non so se ha senso tirare cuore di leona C'è a dire che poi quel roulette lì Andrà in range di erba aiuto Che se è una bacca arancia Raga Fogliame Mi sembra che sia fisica Io avrei potuto spammare Richel Scudo Ma ovviamente ho beccato il pokemon Con impaccio Quindi non si può fare Sta cosa Facciamo che do un livello anche a pop Perché mi cago addosso Sto pensando Se mi conviene usare cuore di leone Oppure andare dritto per dritto di botta In teoria sono più veloce di lui Perché Bunari è molto veloce Botta e stab In teoria Wishy Washy è permesso No In teoria Sono più veloce Botta spam è una buona idea Poi occhio che se andiamo in difficoltà Conviene tirare resistenza In maniera tale da switchare Con banario a 1hp E sperare di poter entrare Con poplio su una mossa non erba Perché magari lui va di azione Perché legge la gill Io penso Che ti spammerò botta Vi ricordo che a level K È 12 Abbiamo ancora un sacco di robe da fare Probabilmente dovremmo skippare 3 milioni di allenatori Io penso che spam di botta Noi siamo più veloci Salvo in culade dovrebbe essere Dai però c'è No fra Raga Ho beccato 4 crit di fila Ho beccato 4 crit di fila Ragazzi 4 crit di fila Va bene Senti Io mi gioco in roll Perché in teoria Ha crit Lui quanto mi ha fatto Di doppio crit 25 Mi ha fatto 12 7 No beh Siamo giù sicuro Siamo giù sicuro Siamo giù sicuro Siamo giù Garantito Che cazzo vi devo dire ragazzi Siamo giù Garantito Allora O gioco Resistenza Per poi provare lo switch Su Grace O sacco Buneri Però cioè Nel senso Voglio dire Io Regà Non posso dargli le bacche Mi becco 4 crit di fila Nel senso Non penso Di avere delle colpe Sinceramente Sei giù se il crit fosse stato 28 Scommettiamo un'icona 100% Regali 50.000 sub Se vengo giù senza crit Sacco buneri Garantito Garantito Ale 50.000 sub al canale Beh Ragazzi Non Non c'è molto da dire Amici Allora Qui mi conviene Incantavoce O mi conviene Bottam Conviene incantavoce Con un filo più di special attack Tra l'altro Ho il pop L'ho deciso Madre di dio Che incubo E qui Rowlet è più veloce Ma abbiamo perso In realtà Abbiamo perso Ma sai perché Abbiamo perso Perché lui adesso Entra in range Non ci basta la baccarancia Lui ci dice One shot Perché Entra in range Sì beh ragazzi Però Ma è esatto Secondo voi Quanto cazzo è forte E' per questo che volevo Butterfree Perché Butterfree qua Era Ista win No Non c'è modo Di uscirne Mi sa che Questo era il primo tentativo Gente Pistola acqua Sfruttare Acqua aiuto Ammesso che si resista Forse con HP Stia Allora Gente Abbiamo Abbiamo perso Non aggiorno Neanche le morti Oh raga Non si perdeva Con Quadruplo Crita Non si perdeva Con quadruplo Un quadruplo Quale è la combo Di tasti per annullare I salvataggi Su sto gioco No Quindi Non mi vanno le combo Sono aiuto Sono aiuto Su Su più B Più X Non sta funzionando Ora ha funzionato Credo Cancella questa run Cursata Per favore Sì fuori dal cazzo Vai E ti dirò Pigia su sto tasto Più Velocizza sta merda Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Signori Che vi devo dire Se becco crit Back to back È difficile Gestire le situazioni Molto difficile Tra l'altro Devo rimettermi Le rare candy Da zero Mi dovete dare Un secondo Ciao Miau Sono di nuovo io Benvenuti Allora Posso salvare? Grazie Così almeno Ora Se mi date La possibilità Vado a prendere Vado a esire Le rare candy Ho fatto tutto Per farvi Schippare Le cazzine Scusatemi Le cazzine All'inizio Per dire Ah no Non voglio Metterle Le rare candy In live Voglio Averle Già pronte My bad Non avevo Considerato Questo Outcome Cioè Quattro crit Di fila Evidentemente Ragazzi Tocca Assumersi Le proprie Responsabilità Dove è la borsa Item Rare candy 999 Sono curioso Per qualche ragione Misteriosa Per caso Ce le ho già Ah a parte che Devo uscire Perché mi da la borsa No non ce le ho ancora Quindi aspetta Fammi Resettare E la borsa Mi appare Al primo item Ottenuto Che però Dovrebbero essere Le rare candy Nel nostro caso Andiamo Perfetto Ah no Ma è questa La borsa Scusate Scusate Me ne ero Me ne ero Persa Non è che forse Devo prima Prendere la borsa Adesso Le rare candy Non me le conta Dimmi che sono già dentro Che non devo rifare Il procedimento Per favore Yes Perfetto Esporti di questo staff Così non lo devi rifare Eh non è così semplice Però Per ora no Però va bene così Allora Io come starter Regami Tengo poplio Perché Se becchiamo Butterfree Rowlet È easy win Ma proprio Easy Easy Quindi secondo me Poplio resta La goal giusta Non so come lo stai facendo Ma puoi fare con PKX È molto più comodo Hai ragione Lo posso fare con PKX È un peccato Avercelo aperto a schermo Perché altrimenti Sarebbe tutto Molto più semplice Ma Prendiamo sto poplio Ok Non darò Soprannome A sto giro Vai Shiny garantito Vediamo un po' Sarebbe stato incredibile Ma niente Soprannome Fix lo sgamo superiore Che è un po' spostato Mi saprai dire un giorno Perché succede sta cosa Na alcun senso Letteralmente Semplicemente Riavviato Un pochino Non c'è nessun altro motivo Sì è proprio spostato Ma che bellezza Ma anche quello sotto Sarà spostato Vedrai 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 Anche quello sotto Sarà spostato Non c'è dubbio Guarda qua Guarda come si è inculato Il tutto Senza alcuna logica Verosimile Vai Così dovrebbe essere pulito Va bene Devo velocizzare Tutta sta roba qua Ragazzi Tutta questa parte È un mezzo in cubo Ma Toccherà farla Oh wow Non posso fuggire Perdonami Vai A suo giro Ah Devo venire anche lui Certo Eh vedi Non ti accorgi Di quanto sono Lunghi e tediosi Alcuni momenti Di questo gioco Finché non li rifai 300 volte Per la tua run Vai Eccoci qua Wow crit Certo Ha senso che succeda Ora Tra l'altro Apro parentesi Prendere ad esempio Rowlet È un cazzo Di incubo Perché Quell'Itten Perché Quell'allenatrice Lì Che ci ha appena Sconfitto Avrebbe un Litten E Quell'Itten Avrebbe Bracere Questo significa In buona sostanza Una win condition In più per lui Cioè Burnar Quindi L'ultimo Pagone a scegliere Rowlet Si può valutare Di prendere Litten Ma Onestamente Perché poi Avrebbe Poplio A quel punto Anche Cioè Bannamente Combattere Sarebbe comunque Easy win Penso che Poplio E Rowlet Siano abbastanza Indifferenti Quindi Tanto vale Prendere Poplio Vai In più Poplio A ripeti Quindi Overall È un po' Come migliora Qua volevo fare Pistola Acqua In realtà Avvene lo stesso Vai Giù Puoi vedere Le evoluzioni Per tenerti Di attività Di Pokémon Si Comunque Mai è una buona natura Questa è una Costanta Posso bloccare Tutte le evoluzioni Che voglio L'unica regola È che non posso Utilizzare Pokémon Con più di 400 Base stats Non ci sono Altre regole In generale Con lo scanner Isola Puoi trovare Molto fighi Sotto 400 Base stats Scanner Isola Bannato Mi sono dimenticato Di dirlo Lo scanner Isola È bannato Perché Manipulerebbe Le catture E quindi Sarebbe un po' Bruttino Secondo me Ho visto anch'io Che ci sono Pokémon in generale Molto sgravati Però no Scanner Isola Decisamente Bannato Comunque ragazzi Io ribadisco Il concetto Cioè qua si è perso Perché abbiamo preso Quadruplo Quadruplo crit No Perché in realtà Però Doppio crit Back to back Io che cosa Ti devo dire Non è che c'è molto Che si potesse fare Se anche solo Fosse stato Un crit Avremmo perso Buneri Che tra l'altro Fra parentesi Ci sta In quella lotta lì Tra l'altro Con Buneri Che aveva Clats Quindi non ha potuto Cioè Abbiamo beccato Era un try Cursato Ma a livelli Impressionanti Era un try Clamorosamente Cursato Vai dammi Ste ball E vediamo Se c'era Grabbing Garantito Vabbè A parte che Lo trovi tu Però va bene Cioè è stato Impressionante Ho beccato Quattro crit Back to back Senza ovviamente Che fossero Boostati In due allenatori Cioè che Abbiamo rischiato Di perdere Buneri Se perdavamo Buneri In quella lotta Non aveva neanche Senso provare A fare L'allenatrice Della scuola Cioè era finito Tutto Grazie Tempest Comunque per il prime Oh sì Vai È sempre lui Questo mi fa molto Piacere Devo comunque Stare attento Quindi diminuisce Un attimino Porco 2 Va bene È comunque Un buon po' Come il menelamento Giusto In più Contro Rowlet È una Pic Non so che Mossa Impari Però Divano Di Twitch Grazie per il prime In più La sua Evo È legge A che livello Si evolve In charge Bug Ragazzi È tardi Vero Tipo al 20 Una roba del genere È indubbiamente Meglio di Buneri In patch Su questo Non ci sono dubbi Charge Puoi averlo Sì perché È 480 Sì Oh cazzo È successo Di nuovo Ok A sto giro Però ha funzionato È 380 Mi sembra Charge Bug Di base Stats Comunque Non sta Sopra 400 Ok Lo porto Al Al 7 Spero Che abbia Una Qualsiasi Mossa Con le 8 Non 1000 Bad Ma In linea Teorica Lui contro Rowlet Dovrebbe Essere Buono Fangosberla Eh Fangosberla Non lo è Però 400 Tondi Ah Pensa Te Perfetto Allora È compreso Al pelo Sembra Per avere Più special Attack Questo Poplio Comunque Sembra Essere Un po' Come migliore Ehm 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 Penso Adesso Non più Perché abbiamo Fatto la cattura Prima Va bene C'è morso Al 10 Vai Perfetto Questo Che prendo Poplio Oltre Per il Fatto Che Ripeti Però Vi Ribadisco Il Concetto Cioè Ripeti Occhio Cioè Non so Provare Non so Prevalutatela Come Mossa In Questa Gene Abbastanza Pacco Vi Devo Dire C'è 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 Ma Sto Al Cap Con Aquara Aquanid In Caso Sì Ottimo Tra L'altro Poi Le Violite Si Ottiene A Se A Adakala No Quando è che si ottiene Le Violite In questo Gioco Mi Vierrebbe Da pensare Adakala No A Konikoni Che Perdona Mixon A Konikoni È l'ultima Cioè Alla fine Allora Insomma Konikoni È l'ultima Eh Allora Non so Still Charjabug Potrebbe essere Un ace Di questa Roba È la città Di Alixia Ah no Allora Non è alla fine Allora Acala Ok 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 Scusami Come si chiama L'ultima Isola Poni Non Konikoni Che idiota Sì No Mi sono Confuso Vai Di presa Sì Dai Sono Sono Molto Più Confident Con Questa Cattura In effetti Forse Ora che ci Penso Non vale Molto La pena Rischiarti Butterfree Su questo Percorso Con la Paura Di Prendere Buneri È che Boh È che abbiamo beccato I crit Back to back La verità È questa Ragazze Vai È l'ultima città Di Acala Sì 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 Però Comunque Charge Backable Condensa Raga Penso che sia Abbastanza Broken Vai Ah scusatemi Non sto Velocizzando Abbastanza Vai Tutto bellissimo Ma Mi curate Vero O Oppo Lo devo Ancora Ah Lo devo Affrontare In condizioni Imbarazzanti Vai Comunque Start Starto Con Con il Charge Cioè Con il Charge Con Grabbine Poi Vediamo Di gestire Reduci Giusto Un pochino Perché se Poi Devo Metterle Roba In Video Vederli Velocissimi È Un po' Un problema Perché Ultraluna Perché è un gioco Fichissimo Molto meglio Lo diciamo Lo diciamo Di rubino E zaffero Senti Penso che convenga Comunque presa Qui Presa Una 60 O una 40 Di potenza Instagen Sembra che è 60 55 Il cap Il cap Della prima Prova È 12 Vai Sì sì Sto Pokémon È un animale Ragazzi Sto Pokémon È un animale Factos Vai Ultra Solo Ultraluna Meglio Di Tutti I titoli Primi Di qualsiasi Generazione Pokémon Probabilmente Parte nero e bianco Poi rispetto a Smeraldo Parliamone Tutto il parcolota Fa aumentare estremamente Di valore Quei giochi Ma rispetto a rubino e zaffero Non c'è dubbio Ma così come Così come il mondo distorto Fa salire di livello Diamante e perla Secondo me Ultrasole Ultraluna Se la gioca con platino L'ho detto L'ho detto Ragazzi Ho droppato la mina Ho droppato la mina Ho droppato la mina Forse preferisco comunque platino Ma non ci va nemmeno Nemmeno Lontanamente lontano Scusatemi Rossi Moro Vai Grazie Le mosse z Si possono usare Sì Vai Il mondo distorto Rispetto al parcolota Mi pare un paragone ingiusto Nel senso che Il parcolota È dieci volte Il mondo distorto Il parcolota Ragazzi È un gioiello Lo è anche il mondo distorto Ma è decisamente Un paragone Ok Il mondo distorto È eccellente A livello estetico Ma a livello di gameplay Non è incredibile Il parcolota È geniale Cioè Non che non lo sia Anche il mondo distorto Ma è un lavoro Molto più grosso Il parcolota Del mondo distorto Per me Contando che Platino Probabilmente Dei giochi Top tier Di pokemon È quello che metto Il più sotto possibile Cioè Che per me Ci sono To Lo dico Allora Forse platino No Forse platino Lo metto ancora sopra Ma non sarei così convinto Minchia Adesso vi spacco la testa Io non sarei così convinto Che Ultrasole Ultraluna In una classifica Di giochi pokemon Si ha Sotto Nero 2 Bianco 2 Cioè Nero 2 Bianco 2 Grandi titoli Bellissimi Però Secondo me Secondo me Questo gioco Se la gioca Con nero 2 Bianco 2 Platino Art gold Smeraldo Nero Nero Stanno sicuramente sopra La seconda gen Quindi oro E argento Nello specifico È un po' difficile Per me Da valutare Il quinto post Nella mia Top 5 Giochi pokemon Che è nero 2 Bianco 2 Secondo me Secondo me Il livello di Di mood del gioco Li apprezzo Di più di questo Ma Potrei Secondo alcune Prospettive Switchare In una mia Top 5 Ultrasole Ultraluna Con nero 2 Bianco 2 Sapete chi Sembro Sapete Sapete Chi mi sono Sembrato Non ho idea Nemmeno di come si Chiami Ma mi appare Continuamente su TikTok Che fa le live A tema calcistica E con Damiano Erfaina Ed è sto tizio qua Non ho idea Di chi sia Tra Mbappé e Alan Chi prendo Gift or ban Paio quel tizio lì Enerix Me lo state spammando Suppongo che sia lui Non ho idea di chi sia Sì ne ho vista anche una Con Ballotelli E Viviano Esatto Bravi 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 Io che difendo Io che difendo Usum Sembro Lui che Che parla di Gift or ban Cazzo Cosa volete Ma state ancora parlando Io pensavo di aver fatto veloce Dove le metti leggende In top 10 Lo basa top 10 Perché Comunque La grafica di leggende È troppo brutta ragazzi Però è un gran titolo In realtà Mi piace parecchio Tra Guardioli e Ancelotti Chi prendi Vivarini Bravo Esatto Sai che fa Tra Platino E Nero 2 Pianco 2 Cosa giochi Ultrasolo Ultraluno Vabbè In tutto questo Io sto skippando tutto Regà Perché sincero Va bene così Vai Via 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 Ammetto Ammetto che è un po' Sensazionalistico Dire che Usum È meglio Di Nero 2 Bianco 2 Però Riuscirei a Riuscirei a Giustificarlo Comunque per quanto mi riguarda È appena sotto In momenti in cui Sono un po' Più lucido Te lo classifico Appena sotto Già che metti Prima posizione Smeraldo No Io non metto Prima posizione Smeraldo Aiuto No Perché mi metti In bocca Questa cosa Così brutta No In prima posizione Ci sono Nero 2 Cioè Lapsus Ci sono Nero e Bianco Poi probabilmente C'è ArtGold E poi forse C'è E poi se la giocano Per il terzo posto Smeraldo E Platino Per me I loro I loro Le loro versioni Di Wish Tutte affanculo Invece C'è tipo Rubino Zaffiro Diamante Perla Non sono neanche In top 10 Forse Platino Comunque meglio Di Smeraldo Anche se Ripeto Smeraldo Al Parcolotta Io lo so Che Non è detto Che a tutti Piace al Parcolotta Però ragazzi C'è posti Come la Serpelotta La Piramide Lotta Il Palazzo Lotta Sono geniali 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 Ed è letteralmente Una quantità Di ore Di gioco Di qualità Impressionante Hanno reinterpretato In maniera eccellente L'esperienza Di Giocare A Pokémon In una battaglia Pokémon Mai più rivista Una roba del genere Il Parcolotta Di Art Gold Sul Silver Platino Diamante Perla Non si avvicina Neanche per sbaglio Alla bellezza Del Parcolotta Di Pokémon Smeraldo Posto che L'azienda Lotta È meglio Su Art Gold Ma Le facilities Di Art Gold Sono Molto meno ispirate Di quelle Di Smeraldo Bene Rieccoci Vai Attenderò Tre pregi Tre difetti Di Scarlatti Violetto Potrei farlo La prossima Settimana Cioè Scusatemi Il prossimo Mese Volevo dire Io Spero Di non Dover fare Chissà quali Video Da questa Serie Perché Se poi Queste qua Sono le clip Tutte velocizzate Vabbè Comunque Sono le prime Lotte Cioè Voglio dire Ma assumo La responsabilità Vai Bene Vale E questa È andata Questo Non mi ricordo Da solo Se pozione Metti Grab Tre pregi Di Scarlatti Violetto Non li trovi Proviamoci Allora Il finale È un pregio Il finale È scritto Molto bene È Probabilmente La landing Più bella Che poco Non abbia mai Proposto Dopo Nero e Bianco Comunque Nero e Bianco Anche lì Era tanta Roba Landy Il finale Di quel Gioco È bellissimo Questo Ce l'abbiamo I personaggi Del gioco Non sono Male Per nulla Gli droppo La precisione A sto idiota I personaggi Principali Nemi Nemi Non esattamente Però Anche quello Del dlc Banalmente Non sono Sono bei personaggi E i modelli 3d Esatto Tre pregi Te li trovo Di più Faccio fatica Tre pregi Ce la faccio Di più Buono Lo so Parliamone Nemi È un bidone Cosmico Sì Abbastanza Però È compensato Dagli altri Personaggi Buoni Penny Pepe Il padre Madre Penny Pepe Il tizio Del dlc Brassius È un bel Personaggio Mabbo Stiff Se lo consideriamo Personaggio Un bel Personaggio Coraidon Se lo consideriamo Personaggio Un bel Personaggio No dai Ce ne sono Di personaggi Belli In scalato Violetto Tre pregi Li trovi Di tutto E poi I tre difetti C'è Nel senso Fai fatica Obiettivamente Vai Ah quindi Sarò buale Aveva anche azione Perché non l'avevo notato Vai C'era più di artiglia Alla scuola Yes Ma Non penso Che lo Terrò in considerazione Cioè Planare con il rapido Artigli In una In una Naslo Che è un incuo Preferisco sempre Avere delle Delle bacche Vai E bravo Grabbin Allora Senti Quel tizio Lì Aveva Ekans E quindi Io ti direi Che Aspetta Ma non ho disattivato Il condivido Esperienza Mi so Disattiva Vai Abbastanza Negli abissi Raga Abbastanza Senti Questo tizio qua Ha un po' di paura Me la fa Quante baccarance ho Eh Dai Perché Ok Magari Sono influenzato Al fatto che Prima mi ha critato Due volte Ma Forse 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 Una baccarancia Eh vedi Perché comunque I flinch Ce stanno Flinch Ehi Non si può Fuggire Va bene Sì sì È stata una buona idea Una baccarancia Decisamente una buona idea Ho avuto Un'ottima Io ragazzi Però C'è nel senso È davvero la seconda volta Che vado a giocarmi un PS Con questo allenatore Ok Capisco Vai curami Bene Non penso di voler mai più Vedere questo tizio In vita mia Porca troia Mele mele ragazzi È un incubo Da superare Nuzloc Io ve l'ho detto Poi forse Più avanti Un pochino Ci stabilizziamo Ma Cristo Dio Allora Dai baccarance Tanto poi dopo Le bacche Le possiamo rifarmare Allora Contro di lei Possiamo anche ridurre La velocità A 120 Grabbin Oh Le dura a perdere Contro Rowlet Non penso che Rowlet Abbia Wait Rowlet Ha beccato Ma avrà Avrà fogliame Beh in caso Presa gli fa Dei danni Importanti Morso è meglio Oh Siamo più veloci Che bella notizia Comunque ragazzi Sto coso No Sto coso Guarda che danni Che gli ho fatto Sto coso È fully V Full V Che cazzo Gli viene in mente A chi ha creato Sto gioco Ok Bacca Comunque può Flinciare Cioè a livello Di lord Dico no Figurati Flincio Cazzo no Vabbè GG abbiamo vinto Bravo Grabin Se non peschi Se non peschi Un coleotoro Al percorso 1 Qui non vinci Il motivo per cui Abbiamo preso Popplio È perché Prendere Popplio Ti rende questa battaglia In teoria più semplice Se provi Prova a farla Con l'Itten Con l'Itten Perdi garantito Roletto Non lo puoi prendere Come starter Bene Ciao Ciao Liam Sono il capitano Liam Ti ho visto lottare Ed era un tale spettacolo Che mi è venuta voglia Di venirti a parlare Lui è crapo Viene da canto È un allenatore Molto promettente La sua Va bene Ok grazie Comunque Oh sì Io stavo pensando Ieri a tavola Con i miei amici Eravamo fuori Che noi a ieri Era l'altro Ieri in realtà Stavamo discutendo Di una cosa interessante Cioè Allora È un po' È un po' borderline Cioè nel senso Sto raccontando Un pensiero Quindi non mi bannate Però Io stavo pensando A questa Stavamo pensando A questa cosa qua Cioè voi sapete Che Attualmente Cioè non so se lo sapete Ma attualmente Il nipote Di Alessandra Mussolini Gioca a calcio Ok Calmi E attualmente Gioca in serie C Nel Pescara In presito Dalla Lazio Calmi Ok Io ho pensato Cazzo però Metti che Metti che su Il prossimo anno Torna la Lazio Floriano Metti che il prossimo anno Floriano Mussolini Torna la Lazio Dal presito E metti che Esce FIFA E metti che uno Fa una carriera Con la Lazio Cioè ci sono Un sacco di cose Che si potrebbero fare Metterlo Capitano Fargli battere I calci D'angolo E voi direte Perché Io vi dirò Che Cioè Per chiamare Gli schemi Comunque E potrebbe Crearsi Una realtà Se dovesse Succedere Questa cosa Qua Gol di rovesciata E potrebbe Potrebbero Succedere Le cose Interessanti A A A FIFA Se Potresti farlo Giocare sulla fascia Destra Esatto E Sarebbe Particolare Come situazione In effetti Cioè Nel senso Riesco Già a vedere Tanti video Su YouTube A riguardo Non miei Ma Di persone Che Chissà Dove Il futuro Ci potrà Portare Chiamare Fu gioco Cubaresi Eh capito Insomma Sono delle situazioni Un po' Un po' Particolari Detto questo Ciao Da questa parte Eccoci qua Bene Siamo Out Dalla scuola Allenatori Non Banale Sono colpito Dalla vostra Intesa Grappo Tu faresti Qualsiasi cosa Per il tuo Pokémon Lo vedo bene Ora capisco Perché quel giorno Ti sei riuscito A salvare Il mio Nebulino Per Dimenticare I Tauros Vai Adesso si leva Dai coglioni Tranquilla Non ti preoccupare No C'è Hop Vai Mike Carriera La Cazzo Esatto Poi Mike Shosh Si diverte Merda È vero Lui la fa La carriera Con la Lazio Lui la fa La carriera Con la Lazio Sai che è bello La carriera Guardi la squadra Oh no Bello Bello Eh il nome In telecronaca Potrebbe essere In telecronaca Tipo Casale Romagnoli Palla lunga Sulla fascia Per Mussolini Particolari Eh Accarezzagli il muso Vai Ti piace Noi coccolette Auro Ti conosco Bene Vai Sì Ciao Crappone Come procede Boh Siamo già Al secondo Tentativo Ti direi Non benissimo Però in realtà Abbiamo Siamo stati Abbastanza Sfortunati Devo dire Eh di Tu po' Ragazzi Dove andate Di bello Secondo Non mi ricordo Non mi ricordo Onestamente Le catture Di awoli Perché ci sono Ci si possono fare Delle catture Ma non ricordo Chi ci sia Mi pare Di ricordare Tipo Grimera Lola Magnemite Poi forse Qualche altro Coglione Oh yes Mare di Awoli Eccoci qua Di giornissimo Vai Annega Più nel prima possibile Grazie Oh Gesù Cristo Scomento che sei Nuovo qui Ad Allora L'aspetto di uno Che è arrivato Molto lontano Sì Cosa c'è Sai come ci salutiamo Da queste parti Allora Non vuoi saperlo Come ci si saluta Non vuoi sapere Come ci si salutava Dalle nostre parti Ottant'anni fa Bene Allora Awoli Si diceva Dunque C'è qualcosa Di utile In questa prima sezione No non penso Le robe utili Iniziano da qua No Tipo dal negozio Di vestite Vai Che te ne pare Di Awoli È davvero meravigliosa Miau Abra Magnemite Grimera Winkle Mime Junior Ok Interessante Si deve dire Che qui Fatto un regalo A chi è un po' Che esroton Vero Vedo che la notizia Si è sparsa in fretta Non ci sono ancora Molti pokémon Pokédex Rotom in giro Ma sono già stati sviluppati Degli accessori compatibili Con Pokévisore In omaggio Thanks Oh minchia Il Pokévisore Velocizza Velocizza Bellissimo Veramente una bella feature Se stai facendo un gameplay Tranquillo Però non ce la faccio già più Vai Mi deve far fare anche la foto Mi deve far fare anche la foto Vero C'è il Il buco nella staccionata Mi pareva una roba del genere Ok Perfetto Ciao Le catture come funzionano? Come in una nazzlock Molto semplicemente Fatto Grazie a mazooka Per il 100 pet Te faccio iar Saluto romano Oh Grazie Bene Ho fatto il mio Signor inquisitore Posso andare avanti? Ho usato Ho fatto una foto Posso procedere? Bene Oh Quelli sono gli adesivi Del dominante Ehm Non c'è alcuna utilità Ai fini di una nazzlock Vero? Perché puoi solo catturare I dominanti grossissimi Ma Dubito che tu lo possa fare Prima di qualsiasi altra cattura Ok Senti dai Fammi entrare qua dentro Che cambiamo un po' i vestiti Non troppo Perché questi Questi negozi qua Sono useless Ma Comunque questa estetica qua Mi fa abbastanza vomitare Vai Compra Vediamo un po' Se c'è qualcosa Oh Vedi ste camice qua Non sono male Camice Ehm Uh Dicevo Che colorazione Vogliamo dare Vogliamo Metterci in tono Con la grafica Del gioco Abbiamo una camicia viola Com'è la camicia viola? Ehi Disgustosa È il termine giusto No ma le camicie Non mi dispiacevano Quante cazzo Dove ci sono Camice Ehm Camicia lola Camicia lola Camicia lola Camicia lola Ci stanno anche Ah beh Questa qua non è male Dai Ci vogliamo fare Non full viola Magari Full viola Sembra un pagliaccio Però È già così Non mi dispiace Sto abbinamento Che richiamo Un po' Lo zaino E poi il cappello Per favore Leviamolo Oh si Oh si Oh si Riccardo Sottolineatura Sium Ha rinnovato L'abbonamento Per sei mesi Le calze Non credo che Pure ariano Il personaggio Si scherza Mi discosto Si forse un po' Troppo Grazie per il prime Ma è manco Terribile come estetica Vorrei cambiare Una certa Le scarpe E lo zaino Almeno così Non facciamo Vomitare A livelli estremi Allora Ok Qua c'è la cattura Dimmi che ci posso Già andare Allora Sicuramente La cattura la faccio Perché ne abbiamo Troppe poche Non penso Di fare Almeno per il momento Ragionamenti Troppo complessi Poi nel caso In altri try Ci faremo Più caso Allora Cosa Di cosa Possiamo disporre All'interno Di questa città Tra l'altro Poi prendo delle ball Perché non mi piace La situazione Vabbè Con surf Fa niente Se la tenta Con wingle Finneon Vabbè Gli otterremo Altre cose Zona commerciale Che immagino Sia questa Abbiamo Iungus Wingull Wingull Pichu Grimer Magnemite Abr In chiabra No Non c'è un posto In cui Ah no Stavo guardando Sole e luna Tra l'altro Wow C'è anche Frufru Che però è bannato Lo dico subito Qual è la differenza Tra Due spiazzi D'erba Due spiazzi D'erba Più vicini Al porto E quelli Più vicini Al comune Dovrei capire Qual è la differenza Più che altro Uno si trova Grimer Al 5% Wingull Al 5% E wingull Non lo vuoi Andiamo Dove c'è Wingull al 10% Che abbiamo Frufru Più altro C'è certo che Beccare Frufru Ragazzi Frufru è veloce Ci apre la testa Questo Ci apre il cranio Altro che Non so Ma in junior Mi interessa Di più Di Di wingull Magari ha qualche utility Fammi vedere Copione Barriera Confusione Meditazione Dove sberla Mimica Ripeti Oh si Oh si Ciano 91 Ha rinnovato L'abbonamento Per 20 mesi Oggi mi sono rivisto Il video Del riassunto Di ditto Quella è stata Una delle tue challenge Più belle Di sempre Abbiamo anche Più possibilità Di Grimer Che non è male Questo vicino Al comune Non vicino Al porto Penso che Proverò a catturare Vicino al comune Allora C'è un 80% Di Abra Che è abbastanza Imbarazzante Eccoli qua I cosi dei dominanti Va bene Penso che Proverò A catturare Dove c'è Grimer Al 10 E non al 5 Sperando Che non mi Non mi ciulino Mettendomi contro Abra Che per carità Cadabra è ottimo Scanneriso L'è bannato Si Cadabra è ottimo In realtà Il problema È che Abra È incatturabile Con le ball Oltre a essere Inutile In early game Vabbè Quello Prima Il problema Di fare la cattura Qui Grazie a Revenga Per il prime Riccardo Sottolineatura Che tra l'altro Immagino Per andare avanti Posso già andare avanti Mi sono tutti Avvicini per ora Ok va bene Credo di dover Andare vicino Al porto No Questa era la casa Treno K Dorato Usa I buonamenti I doni I bit Per raggiungere Il livello Successivo C'è un Aip train Che non ho mai Visto in vita Mia Quindi Bene Donate sub Suppongo O bit O quello che volete Ah devo aver l'amo Qui d'accordo Capisco Qualcuno Ha idea Di come funziona Sta roba Perché io non ho la più palida idea Non è qui che devo andare Comunque Grazie Musica per i 100 Grazie Pietro Fritz Per il prime È rarissimo E beh la prima volta che lo vedo Oh sì Oh sì Bene Suppongo sticker nuovo Grazie Nico Curry Grazie Grazie Pietro Fritz Oh sì Tutto bene Sì Soprattutto ora Pietro Sottolineatura Che abbiamo il treno dorato Matto nel culo Beh Buon lavoro ragazzi Non ho molto altro a dirvi Oh questo è il comune Sì Oh sì Quindi se questo è il comune Immagino che Gli spiazzi qua dietro Vernice fresca Liam Smirgol Ma andate a cagare Oh minchia Le malassate Me le ho dimenticate Grazie Schiaro Per la sub regalata Treno K Livello 2 Sono andato un po' troppo avanti Vero Comunque è lì che devo fare la cattura Con le robe Oh sì Oh sì Grazie Peto mistico Per la sub regalata Posso evitare di affrontarmi subito Oh sì Molto bene Avere un altro Pokémon Non sarebbe male Grazie Adam Per la sub regalata Livello 2 Completato Poi sono curioso di sapere Come funziona Treno impossibile Da far deragliare Mentre completate Il livello 3 Del treno K Dorato Matto in culo Cattura Allora gente Non deve essere Apro Oh ho sbagliato Ma non mi sembra Oh questo qua stava al 5% Dio cane ho sbagliato No No è giusto Stava al 5% Wingal Regal Grazie Masuke Per i 50 E per altri 50 Qua stava al 5% Wingal Oh sì Oh sì Grazie Ardia Per i 5 abbonamenti Grazie Matt Marina Per i 100 bit Mostruosi Era al 5% Sto roba qua Non era per nulla probabile Ma noi ci siamo riusciti Matt Marina Bene Grazie mille regà Per le sabbe Per i bits Siamo a livello 5 Ormai di sta roba Minchia attacco d'ala Sta roba però Vabbè Puttavia Avevo ancora una mega ball Livello 4 Se ci siamo quasi Ball Wow Oh sì Super suono Grazie Masuke Per le 5 Siamo regalate Livello 4 Demolito Demolito Tira in cantavoce Va a danneggiarlo un pochino Sei lo streamer al giorno Su milioni che è stato scelto Beh certo Io sono il prescelto divino È ovvio Si gode tantissimo Cioè scusami Questa cosa succede una volta Eh Chiederò a Giofei Bisogna supportare il Crapon Grazie mille per i 25 I 250 Schiaro Adesso chiederò a Giofei Intanto abbiamo preso Wingal Ciao Giofei Mi sapresti dare delle delucidazioni Appena puoi Sul treno K Dorato Che mi è appena Apparso in stream Che cos'è Allora da quello che state scrivendo È un evento più unico che raro Difficilmente ricapiterà Quindi è il momento giusto Per spammare roba Grazie Savas Per la tier 1 Quasi livello 6 Intanto Wingal In saccoccia L'ultimo Pokémon Che avrei voluto trovare Però boh Attacco d'ala E credo anche qui Cuttack Ah merda Ma c'è la musica Del team Scali Intanto Dai Ehm Non so se portarlo Al 10 In realtà Onestamente Grazie Ferdinando il Toro Per i 100 bit Magari Se non lo sei Forse è di cattivo gusto Ehm Grazie Schiaro Per i 260 bit Grazie Jack Frost Per i 50 bit Andiamo con sto treno Si gode Si gode Cazzo che bella cosa Molto bene Viene stato uno streamer Al giorno In tutta Twitch E gli viene dato Ti ho anche scritto su Discord Per FIFA Oh sì Oh sì Oh sì Ah Cioè quindi Oggi Twitch ha estratto me Solo oggi Cioè prima no Ma Potevano svegliarsi Grazie FN dare Per il terzo mese Livello 6 Approaching Bene Siamo estrati tra tutti Gli streamer Di Twitch mondo Suppongo E Wow Bene Molto 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 bene Sapete cosa non è bene Il level cap Non so se mettere wing Al Al 10 Onestamente Credo di sì Oggi N'è stato Nome del migliore d'Italia Ma Fai d'Europa Non capisco perché Dover giocare sempre Al ribasso Non capisco Non comprendo Non intuisco Io non ho idea Con questi tre Pokémon Come faremo a fare Il dominante Ma Suppongo che Un modo Lo troveremo Ok Meniamo Sti tizzi Fai del mondo A sto punto Sì però Sì del mondo Vai Grazie Jack Frost Per i 50 Jack Frost Cheer Vicks Chi è Ah merda Abbracciamoci forte E vogliamoci tanto bene Dovrei stare Più attento E guardarli Team Della gente Che mi Che mi affronta Ora va bene Che questo qua È uno Zubat E non dovrebbe Ancora avere Attacco d'ala Ma Eh Intanto assorbimento Il campione Oh sì Grazie P.E.B. Per il Prime 19% Del treno K dorato Unico streamer Ad oggi 23 e 20 A poter dire Di avere il treno K sbroccato Fai entrare Wingal A sto punto Qua la confusione Non mi piace Assorbimento Wingal Eh Beh abbiamo Super suono Potrebbe essere Una Una Call Fall Che palle Ce l'ha anche lui Super suono Come avete potuto notare Non penso che a sto punto Abbi attacco d'ala Non l'ha mai tirato Ha preferito tirare Sgomento su Grabin Quindi sarebbe un po' Curioso se arrivasse ora Non mi fare super suono O missalo In alternativa Sono più veloce Oh sì Oh sì Grazie Dav Per il secondo mese 32% Di livello 6 Numeri importanti Per noi Primo approccio Con il team Skull Gestito Era uno Zubat E ho dovuto fare Tre switch Ok Bene Membri del team Skull Bello Carino questa reference Non so se è voluta Ma qui Audi C'è i membri del team Skull Se si impegnassero nel giro delle isole Ehm Come si impegnano a far casino Farebbero meglio Che è un po' Una sorta di Mezza frecciata O comunque Riferimento Secondo me A Guzman Alla storia di Guzman Interessante Ciao Frarf Benvenuto Buonasera Grappone Vengo su Cane d'Axone Per avviate Che gli Devo fare Una soul link Con lei Potrebbe lasciarmi Il suo parere A riguardo Serve una figata Altro che Super volentieri Super volentieri Non su Ultrasole Perché Penso che Una soul link Su questo gioco Possa essere Lunghissima Io per dire Ho un incubo Con le Naslock Dio merdo Ho sbagliato Oh si Oh si Oh si Dio merdo Ho sbagliato Grazie Ola Steph Per le 5 Sub Ma ho commesso Un errore Imperdonabile Mentre parlavo Del fatto Che non ho mai vinto Una Naslock Su Art Gold Livello 7 Del treno Io godo Ma qui c'è Un problema Tecnico Allora Va bene Calma Lui dietro A Smirgle Oh si Oh si Oh si Corbili ha rinnovato L'abbonamento Per 3 mesi Fammi vedere i set Aspettate Un secondo Un secondo Un secondo Raga Grazie mille Per il supporto Facciamo che è finita Sta battaglia qua Che ero distratto E ho avviato Facciamo che poi Dopo vi ringrazio Per bene Allora Prima lotta Se il giocatore Sceglie Poplio Ok C'è Smirgle Con Fogliame È interessante Allora Grabbing Lo devo risparmiare Mi sa Mi inchiaccia Tecnico Mi sa che Grabbing Va risparmiato Un attimo Santa Elena Cirdix Cento Grappo Pipus Switcham Ogreat 96 Cirdix 50 Switcham Grazie per il bit Regà Poi vi cago Lo giuro Ma Qui forse Ho commesso Ma c'era un modo Per evitare Questo macello Avrei potuto Schippare Avrei potuto Andare a curare Avrei potuto C'è Oh sì Oh sì Stai scherzando Oh sì Macca Sottolineatura 94 Ha rinnovato L'abbonamento Per 5 mesi Ma raga ma che danno ha fatto Mano con gesto di chiamata Mano con gesto di chiamata Come l'ha trovato Sto danno? Julius 126 Cirdix 100 Ho pensato 10 minuti A che scrivere Nel dubbio Meglio Il culo Gelato Che il gelato Nel culo Da wiki Risulta che abbia Ferro mascella Sto pokemon Oh merda Su ultra sole E su ultra luna Dio cane No Ok A stake out Se switch Radoppia il danno Che fa Ho guardato Il team Di sole E luna E non di ultra sole Oh merda Wow Ottima lotta Da affrontare Senza una lead Giusta Non benissimo Non benissimo raga Pensa te Pensa te La wiki italiana No neanche La wiki italiana Dice sempre Caffè romascella Grazie al sole Beh ok Devo saccare Wingale Abbastanza evidente Raga Non c'è Molte Non ci sono Non ci sono Molte altre Out Sì ma che Quanto Tanca Quanto Minchia Tanca Ok E immagino Che siano usati Per forza Ok Eh sta roba È roll Si tanca Saluto del dio Grazie per la baccarancia Che non ci permette Di attivare Acquaiuto Ok Va bene Un occhio Un occhio di tenere Questa è una grande Mossa Le va ruggito Oh sì Ah raga Semodio per perso Sottolineatura Barcio 97 Ha rinnovato L'abbonamento Per 21 mesi Non ho ancora Messo lo stile Fisso Bene Temo di aver perso Questo sta All'11 Ok Qua da sottolineatura Re cheer Di x50 Ok Forse potrò provare Un occhio di tenere Meno uno Forse avremmo Tancato Avremmo giocato Meglio qua E qua Azione Fa dei danni Atroci Secondo me Non c'è perso Raga Fancula Giusto a titolo Informativo Avrei tankato Con occhioni tenere Ho perso l'out Manco questo Mi ponce Deve sapere Ma porca Troia Cazzo di mele Mele È ingestibile Ragazze Ok Tentativo 3 Metti il velocitatore A 3 milioni Per favore Va Va Ora è andato Quanto cazzo Sono usati Sti tizi Ok Dovevo diminuire Perché altrimenti Qua non riesco a selezionare Aspettate Ok Beh Mele mele È nota Per essere estremamente Difficile In hardcore Nazlock Quindi ci posso stare La verità La verità è che se probabilmente Avessi startato Con la lead giusta E la wiki Non avesse avuto Non avesse riportato L'abilità sbagliata Sarebbe andato tutto Molto meglio In più Butterframe In più Butterframe Ok Guarda quanto minchia È veloce adesso Si vede che Sto tiltato Vale Avessi avuto Questo pc Per la shiny lock Sarebbe stato Tutto molto più bello E vabbè My bad Raga Questo succede Quando giochi Le naslock Non blind Ho miscliccato Metti la velocità A mille passa Grazie Perfetto L'errore è stato Abbastanza Palesemente Non scegliere La lead Quando le fai In blind O quasi blind Non sai dove sono le lotte E sei meno attento Ogni momento di distrazione Proprio anche banalmente Non guardare il gioco Ti porta A quello C'è sta Questa probabilmente In un altro contesto L'avremmo giocata meglio Poi ripeto Butterfree Ci smurfa il videogioco Oh si Oh si E in generale Anche più avanti Quindi Allora One sec Ragazzi Che devo metterla in rare candy Se puoi aprirti Grazie Se puoi aprirti grazie Ale Mi scoccato No ok è giusto Ok Ora apri Pkx Che è impossibile Da usare Pkx Crappo Secondo me Dovresti usare Pkx Per mettere Rare candy Io lo uso Per giocare Con i leggendari Al 100 E va benissimo Rare candy 999 Perfetto Export Molto bene Allora In linea teorica Potrei Vediamo se riesco Copia Non riesco Estrar Non riesco A duplicare Questo salvataggio Copia In desktop Oh Ok In teoria Se Perdo Di nuovo Ehm Pkx Sentra Wiki Riporta Accordamente Una pagina Di Leone Che è Quello Di un gusto A sorveglianza Vediamo Vediamo un po' Allora Pkx Ultrasole Ultraluna Eccoci qua Che sbaglio Abbiamo LUC' Ehm Evidentemente sono un pazzo Ci ho detto Vai Terzo tentativo Vai a pigliare popoli per favore A me spunto sorveglianza Cioè avrai la pokemon central del deep web Che ti devo dire Vieni qua Bentornato Se la volete vedere in un certo modo Magari così Soft resettiamo poplio come uno starter buono Vai Ma è perfetto Invece è un po' un bot Vai Sì Inzelmi Adesso mi metto a stare con i selvatici Diventa la serie più bella di us di sempre Va bene Regà Oh mi è scliccato Eh ci credo Sto andando a 3 milioni di velocità Non che sia importante in questa lotta Vai Ale Altro po' più femmina Sei buonato È rarino in realtà No? Vale ancora in questa gen Che gli starter femmina Sono un Cosa 12.5% Preferirei prendere altre percentuali Eh Però Immagino di dovermi accontentare Preferirei prendere altri 12% O non prendere dei 4% Back to back Ma Direi che va bene così Vai Velocizza sta roba Sarebbe quasi Da fare un salvataggio E tenerselo da parte Nel momento in cui Perdiamo Ripartire sempre con lo stesso poplio Per evitare tutta sta parte qua Però non sono ancora arrivato a quel momento di stress Però stiamo avendo sfiga slash un po' di inesperienza sul gioco Che va bene Vai Sì 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 Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Meno male che basta spammare AI Non devo fare effettivamente attenzione alle mie scelte Ok È proviso di non fare attenzione alle scelte Ora in realtà bisogna fare attenzione alle scelte Inizio già a diminuire gradualmente la velocità Ok Questo è garantito Comunque eri saputo che mele mele è un incua Quindi non Non mi stupisce troppo la situazione Certo è che forse avrei potuto evitare la sconfitta con Liam Stando più attento C'è poco da dire L'ho distratto Ok Io cerco comunque di andare a prendere Mamma mia Cerco comunque di andare a prendere Butterfree Perché Butterfree secondo me è veramente OP Andiamo a velocizzare un po' Thanks Vai Giusto fare tre per capire quali sono le battaglie più difficili Sì beh ma in generale Allora il fatto è che si sa Che mele mele è un incubo Cioè si sa che uscire in naslo da questo posto qua è molto difficile Poi il gioco si Fra tante virgolette Semplifica Nel senso che Non rischi di fare Kill ovunque Cioè di fare morti ovunque Certo ci sono i dominanti che sono un incubo Però andando avanti nel gioco si sentirà Scusatemi Si sentirà ovviamente il peso di dover Giocare con i Pokémon sotto 400 di BST Che a quel punto diventa il vero incubo Vai Va bene Si fai volare anche l'ultrapattuglia Sì ragazzi Facciamo che va bene Comunque c'è La cosa bella Oh sì Se ci pensate E che ho Cioè in salotta qui Ho fatto le catture a modo di Nuzloc Ho sbagliato la lead Nel senso che Non sapevo che c'era la battaglia lì Cioè e ho perso Non che poi lui mi ha crittato dieci volte Cioè ho easy perso È vero che Probabilmente se avessi saputo dell'abilità Sarebbe stato diverso Hai schippato una buona sul percorso Una Importantissima pozione Prendiamo questa Un'antiparalisi Non vuoi mai perdertela Un'antiparalisi Un item assurdo Caterpie Ok Un deja vu Ha un'abilità che non sia in patch Bunere No dai Ma che natura è Ok Un'antiparalisi Ok Un'antiparala Ok I mean Ho una gran voglia di fare Quello che stiamo pensando tutti ragazzi Va bene Dai proviamoci Dove sono le caramelle rara? Un secondo Abbiate pazienza Manca un dettaglio abbastanza importante Ho fatto dei misclick Allora Penso che inizierò a tirare aperto Pick up axe per un bel bomb Allora lo tengo perché Comunque tanca meglio fogliame Quindi magari riesce a farmi comunque Sai che forse non ho mai esportato Ora dovrebbe essere giusto Vai Comunque tanca un po' meglio Magari con qualche crit Non lo so C'è vederle in Vienna Oh Splash mi ha detto di tenerlo Si deve prevegenza Ma poi Splash deve volare comunque al bar Non è che c'è molto da fare Ok Ma andiamo a fare Auval Sarà un bel incubo Uscire da mele mele ragazzi Se non riusciamo mai a trovare Le percentuali che ci servono Sarà molto difficile Purtroppo anche Grabbing Che abbiamo catturato È un 15% È molto raro Quindi alla fine della fiera Conviene andare a prendere Butterfree Che è un 35% Certo che Adesso ci divertiamo raga Vabbè dai Comunque due hit sta roba A posto Bravo Bunerim In tutto questo ci sono riuscito A non mettere neanche lo stile fisso A una certa Ricordiamoci di metterlo stavolta Vai Poplion Non mi ha fatto botta Ma forse non è stata una grande idea Pistola acqua e via Bando via le polvi sono al 12 Si fa niente Oh si Non è importante Raffica ce l'ha È già un'ottima cosa Cina che ride Grazie Monterisi Per l'undicesimo mese Benvenuto Spero che sia anche meno di un anno Dalla nostra uscita da Mele Mele Vai Peraltro ho visto qualcuno In chat che diceva Eh ma crappo Dobbiamo triardare di più Leggere i documenti Azi che cazzo Devo fare di più Se in una mi critano Tre volte Ho tre Pokémon in croce E in questa battaglia qua Non l'ho neanche planata Perché non me la Non ricordavo che fosse subito Dobbiamo prendere il calcolatore Fare i calcoli Vedere le V Che cazzo vuoi Che cosa devo fare di più Sesso Probabilmente Sì Devo fare più sesso Ma non è quello il punto Come faccio Bisogna Troiordore Letteralmente Quattro crit E io Non Non imbrocco la lead Perché primo Ah Sono distratto Direi che non c'è bisogno Di triardare C'è bisogno Di non prendere Quattro crit Back to back E di non distrarsi Sembra molto Molto ragionevole Come cosa Dai Oh sì 8 cm Beh non so male Grazie Giorgino Giorgino 99 Ha rinnovato L'abbonamento Per 8 mesi Mica male Butta lì via Grazie capo Butta lì via Stai sentito Adora cambiare tutto Grazie al nostro Buneri Meno attacco fisico Hai ragione Prossimo Questo giro Robert come viene giù Ho paura A dirtelo Ma A testate A cazzotti De Buneri Cazzotti De Buneri E Baccarancia Ragazzi Non è che ci sono Molte altre goal Oh wow Ciao Ho preso una tangente Perdonami A botte De Buneri Baccarancia Sperando di non Venire crittati Di nuovo Questo è l'unico Plan possibile Per questa lotta qua Capo Bisogna calcolare Bisogna vedere Bisogna fare Ok Non ho mai affrontato Wingal come cattura Che io penso Se avessimo pescato Qualsiasi altro Pokemon Sarebbe stato meglio Di Wingal Nella lotta Con Liam Io ne sono abbastanza convinto Insomma Vai Ultrasolta Ultrasolta Sui giochi Pokemon 3D preferiti Sì decisamente Dopo c'è Archeus Poi c'è Horus E poi ci sono Giochi che Tendenzialmente Non mi piacciono Sicuramente Comunque Spade e Scudo Precede tutto Il resto Perché mi son curato C'è letteralmente Un centro Pokemon Giovanni Vabbè Niente Vai Sì 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 Con il velocizzatore Comunque ci si mette Il giusto Allora vai Scuola per allenatori Tauros di merda Sai che devo Velocizzò ancora un po' Vai Vale Dobbiamo solo Sperare che Quel Rowlet Venga giù A furia di Cazzotti Di Buneri Più Baccarancia Non è che abbiamo Molte alternative C'è un'alternativa Ci sarebbe Sarebbe Non trovare Buneri Ma Purtroppo Tra l'altro C'è ripeto Questa è la combinazione Migliore per superare Questa lotta qua Cioè Può più intudare Rowlet A sta tizia qua E comunque È un incubo Vai Hai in pace Ah cazzo È vero C'hai in pace Vero Sì togliamo il condividio esperienza Ci fai da ragione Anzi togliamo il condividio esperienza Bravi Togliamo il condividi Borsa Disattiva Disattiva E vai anche a mettere lo stile Fisso Opzioni Veloce Fisso Invelo automatico al box Sì Ok Vai Ciao Zorua Eh ma non è cosa Fidati Purtroppo non è cosa Vero che Ligia mi cura i pokemon Ok thanks Stavo già per mettere a piangere Questa è la metapod Sentimi hai rotto i coglioni Vai di poplio E fai Cazzo di pistolaco Così almeno non soffro A sua difesa Vale Vai Zoom Oh poplio salirà al dieci Tanto ci avrei portato comunque Con le rare candy Quindi va bene Anzi in realtà Oddio Non è che vada benissimo Ho sbagliato Come Come si esce Come si esce Dov'è il tasto 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 Questo è il tasto Sì Ciao Bene Pro memoria Non mi scliccare mai più In questo gioco Senti Fallo con poplio E giochiamoci Una bacca arancia Ok Merda Merda Però Volgibot Non l'avevo considerato Vabbè ok Masha' Alla Vai Va bene Poplio In teoria Se lo mangia Questo Va bene Funeri Insomma Fiducia che ho in te Poca In pace Non puoi usare Item Va anche bene Così Senti un attimo Gli devi entrare di testa E poi forse A una certa Cedere il posto A poplio Questo poplio Ha più speed Quindi Magari Ci sta Che ha un speed Da roulette Oh sì Oh sì Oh sì Quindi l'idea Sarebbe Menare il più possibile Con buneri Poi switchare Su poplio Sperare che sia più veloce E bella Soldier Grazie per il quinto mese E grazie per i cento Per gli auguri per i cento k Allora Vai buneri Bottam No crit In linea teorica In queste condizioni Oh c'è un problema Però lui andrà Eh ora lui se io lo Ora io Lui mi killa Io ora se gli faccio botta Lui mi killa Perché sta in erba Aiuto Mi killa Quanto mi ha tolto Finora Scusami Io ho fatto Aspetta Io ho fatto Quattro volte botta Giusto No Tre Uno Due E quindi mi ha fatto Tre fogliame In teoria Sto a roll Geghiamoci La raga C'è nel senso Vabbè raga C'è nel senso Penso che siamo tipo Nove crit a uno In questo Dai almeno Fa Ho capito Bene Allora Fun fact Questa è la prima morte Che riusciamo a fare Senza perdere la squadra Velocizza tutto Gentilmente Ah zì C'è nel senso Sarò ridondante Ma se non crittava Non perdavamo Sarò ridondante Però se non crittava Se Buneri Non era in paccio Se non aveva La natura negativa In attacco Fisico Sarò ridondante Però Sarò ridondante Però Quattro hit Senza crit E dura E durissima Infatti Durissima Sai cosa potrebbe succedere Anche che magari Crit io E durissima Minchia Impossibile Non breccare Quattro hit Senza crit Tre In tre battaglie Di fila Eh vabbè No Allora scusatemi Ho chiesto veramente troppo Chiedo proprio scusa Chiedo scusa E cedo tutti i miei diritti Come l'individuo Nello stato obsiano Cioè cedo i diritti Alleviata Non ne potrà fare Quello che vuole L'unico diritto Che non mi può togliere Quello alla vita Ma per il resto Faccio tutto quello che vuole Vostra onora E fare le foto Con sto idiota Va Veloce Sì Pikachu Bam 800.000 foto Questa 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 è bellissima Dai Beh con nove crit In tutto Early game Devi tryhardare di più Ok È vero Sono d'accordo Mamma mia Quanta gente Dai levati Il lato Il lato interessante È che ogni volta Che perderemo La parte Di mezzo La speedrunneremo Così Guarda Vorrei dire Grazie Buneri Ma non so Non so Se hai fatto il tuo Dovere Bene Ragazzi Che bello Che bello Che grande run Dai facciamolo Finchè non siamo Troppo tiltate Allora Sai che devo diminuire La velocità Camicia viola Pantalone grigio Prima mi piaceva molto Bene E questo cappello qua Vai Ma dio Che Sa che È esatto Gli ho premuto Che Però vorrei mettere Grazie Sì Ah posso anche scegliere Senza Vabbè ma questo qua Ci sta in realtà Vai Ah perché io ho XY invertito Ok Bene Ora cattura E proviamo Liam Ma secondo me Andiamo Straight al 3 e 4 Ho come questa Sensazione Ragazzi In più stiamo Overcappando Allora Queste qua Sono le zone Vicino al comune Questa è letteralmente Dietro il comune Penso Quindi c'è Non Wingal Per favore Wingal è un 5% Non mi ricordo Già più Cosa c'era Qui Pertanto Non lo so Rick Non lo so A me Mimmo Lucano Non fa impazzire Incredibile Gli ho dato la stab Sì raga Impara Riflesso Schermo Luce Può anche imparare Puro gelo Con no guard Sta di fatto Che perdiamo Da Liam Cioè nel senso Non so come dire Raga però Forse Forse Dimenticate Il fatto Che perdiamo Cos'è No Penso che andrò Andrò di confusion Onestamente Allora Allora Sicuramente contro Zubat Ok Vogliamo Lo regge Voglio vedere Come regge Invece Confusione E azione No ma è persa Sicuro Ragazzi Non c'è Molto da fare Però porto La luce Tante catture Dopo Ne ho esattamente Una Una ne ho E il cap Della sfida È 12 Ci sono 5 Al 9 Complesso Senti Allora Fai Memori Del team Scull Yeah E poi Vediamo un attimino Il da farsi Che ti devo dire Io Come si regge Azione Barriera Sì Diciamo Ah c'è anche La cattura Del cimitero Vabbè Allora Sì Ma comunque Siamo Straight Into Tra i Quattro Ragazzi Sta cattura Non sarebbe Così Importante Se riuscissimo Allora Aspetta Ora Però io Ti dico Di no Ok Allora Niente La speed Un secondo Allora Beh Ho due Baccarancia Senti Io Ci provo A portarlo All'11 Allora Wow 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 Errore Allora Vabbè Senti Io Allora Sapete cosa Io vi ho visti in chat Io ci sto pensando A crab roller Però È che il percorso 2 È l'ultimo Disponibile Per butterfree Se non vado Errando Quindi A me Non dispiacerebbe Per nulla Avere butterfree Su quel percorso Senti Ci sto pure Sul prato Di mele Ah ok Buona notizia Allora Potremmo andare Di crab roller Io Proporrei Una tecnica Abbastanza Suicida Cioè Spam di occhioni Teneri Di pop Vediamo di gestire Gumshoes Con pop Lio Quanto possibile Più baccarancia E poi Su smirgo Tentiamo Un occhioni Teneri Più le barriere Di mime Junior Sì Ma azione Raga È un 80 Di potenza Con technician Ma porca Di quella Puttana Cazzo Di baneri Cioè Che fastidio Ti rendi conto Che stiamo Per finire La stream Di oggi E potrei Essere Fermo Allo starter Allora Setup Occhioni Teneri Ovviamente Raga Non devono Critare Però Cioè Nel senso Ottimo Ti ha già intato Il videogioco Ok 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 Lui sta a Meno Quattro Io sto A meno Due Potrei provare Iniziare a pistola A quarlo In linea teorica Ma forse Se riesco A trovarmi A meno Tre È meglio Va bene Senti Ora Insisto Cioè Ora vado Io sono più veloce Per natura Il che è ottimo Allora C'è un dramma Qui ovviamente Ora mi si attiva Acquaiuto Che era la mia idea Bene Sack di Poplio E Mime Junior Deve fare Uno V1 Contra Svirgole Allora Sack Fai occhioni Teneri Droppa L'attacco Di uno E poi Mime Junior Into Confusion Non penso Che ce la possa fare Oh Posso provare A tirare un barriera Volendo Non penso Di essere mai Più veloce Ma Contando Come una bacca arancia Forse potrebbe essere Un'idea In realtà Io penso Che il nostro Out migliore Sia Sperare Di confonderlo Con Confusion Non lo so Lui con azione A meno Uno Ci farà Prova Barriera Lui è pure Più veloce Ci farà Metà vita No Poco Dio Quanto fai Di Confusion Broski Aspetta Aspetta È vinta Se non critta L'ho detto Ma in teoria Mime Junior La porta a casa Non deve crittare Unica cosa Bro Te prego Con una tecnica suicida Saccando lo starter Il goat Mime Junior La porta a casa Questa è la E quanto è forte Occhioni tenere Goat Vero Tu le tascate Siete davvero interessanti Me l'hai ridotta Solo al mimo Però grazie Alla prossima Vattene a fanculo Chiedete scusa A mio fratello Mime Junior Un giocatore Sontuoso Cazzo Che danni Di confusion Comunque Fanculo Se avessimo avuto Ancora Bunari Probabilmente Non si facevano Le morti O comunque Si faceva La morte Di Bunari Che è un pagliaccio Si switchava Su Bonni E Lo si perdeva E si risparmiava Poplio Ok Te devo Di Vai Senza Occhioni tenere Allora Occhioni tenere Su Poplio Importantissima Cioè Almeno In run In cui non si scioppa Va bene Comunque ragazzi Buono La situazione È la migliore Fino a ora Anche se run Sarebbe acquisire Knowledge Già Penso proprio Di sé Ora Nel senso Noi abbiamo Un Pokémon Che ha 290 Di punti Esperienza Per superare Il level cap Ed è Solo un Pokémon Ora Io credo Di essere Forzato A questo punto Quante catture Allora Ho il percorso 2 Di Alolan Ok Nel mucchio Di bug C'è Crabrawler Garantido Mentre Nel cimitero Di Alolan Che sarà Di Auloli Di Auloli Scusatemi Zubat Gastli Misdrivas Dreflun Gastli Avrebbe Maledizione È un'altra Tattica Suicida Gastli A maledizione Ok Beh allora Crabrawler In teoria Siamo contro Raticate No Quindi Penso Cioè Non sono Un fuorilegge Ma ho necessità Credo che sia Abbastanza Obbligato Prendere Sto Pokémon Ah poi Misdrivas A più 400 BST Sì avete ragione Vabbè Non è che ci sia Molto da fare Ragazzi Ciao Lilian Sono vivo Per miracolo Poi non rompermi I coglioni Per favore No Non sto andando Alla grotta Sottobosco Non è ancora Il momento Fidate Si è molto P contro Raticate Era una mia Picca Avrei voluto Evitarla Però Se mi dite Che forse Mi sono confuso Era al prato Mele Mele Caterpem Facciamo Facciamo Di sta minchia Bello Là dietro Clamorosa La texture Quindi ora posso andare Cosa ho sbagliato Cosa ho sbagliato Gli accarezzi Ah già voleva che gli accarezzi Vede torna Vai Bene Allora Il problema È No vero Oh no Chi c'ha Questo Allora Se ha più di due Pokémon Mi sa che dobbiamo Provare la cattura Di Malkuita Anche secondo me Torniamo sul percorso Due di Alola Allora io bisogno Di sapere Questa allenatrice Com'è Ha un Gastly Al 9 Aspetta Siamo su sole e luna Ha un Cutiefly Al 9 Non è un Però è al 9 È scarsino Allora Allora Qua ci sarebbero Ekans Rattata Abra Drowsy Maquita Però Crabroller Garantito Se riuscissimo a raggiungerlo Senti io ci proverei Ad affrontarla Anche Anche Cazzo Cazzo al 9 Bravo Ma Maim Junior Tira delle lecche Importanti Ah Rattata Lola Non ha Guts Ottimo Ottimo Thanks per l'informazione Bravo che debanchi la mia stessa chat Grazie Maim Junior Allora Ok Ok E' il surf Maintime Giusto Quel nuotatore Ha rischiato Tintarmi tutto Ogni cosa Non c'era Non c'era un albero Di Krabroller qua No eh E qui non c'era una grotta Dove però forse Non conviene fare cattura Sta grotta qui E' una zona di cattura Caverna costiera Cosa c'è? Azubatep Psyduck E' solo Zubatep Psyduck però Beh qua Qua c'è praticamente C'è Zubat garantito Beh a parte che è Zubat Però beh un Pokémon in più E' un sac Psyduck è molto raro Però Beh Cosa sono? Stupido che non la faccio La cattura Almeno Se incappo in qualche allenatore Ho un Pokémon in più Oh C'è Zubat ha 70% E Psyduck ha Ma Ok Beh ma questa è una cattura Grande Zubat 70% Psyduck 30% Vai Thanks Piglia Tanto ci sono solo Loro due Sì Indebolirlo è un po' Un problema In più lui ha Sgomento Però con botta Dovrebbe essere Un indebolimento Abbastanza Ok Quanto fai di Sgomento? Sti cazze Non piacevole Considerate la mia sfortuna Con le catture Dovrei prendere delle ball Tra l'altro Eh Golbat è 450 Di base stats Scordatevi Golbat Ma infatti Questo qua è Neanche tanto carne Da macello Perché in realtà Contro Ala E' buono Zubat Anzi Buonissimo Ti direi Però ecco Ok Vai Gente abbiamo Un altro Pokémon E' già Qualcosa Vai Zubat Vieni qua Adesso vado a Comprarle i bolsi Sì Oh sì Oh sì Oh sì Grazie Asginafno Per il Prime Oh siamo A 1050 Sub Comunque Anche grazie A live train Dorato Grazie mille Ragazzi Il fatto che Io sia andato In vacanza Sette giorni Più Essermi Ammalato Altri quattro Essere tornato In meno di una settimana Alle sub Che avevo prima Anche di più E' E' tanta roba Vai Va bene Quindi grazie Questa è La sintesi Bene E per ora E' un hardcore Naslock normale Se stai buono Allora Devo tornare Un attimino Indietro Facendo ovviamente Attenzione A quel bambino Bastardo Qua c'è il cimitero Ok Va bene Comunque Ora se abbiamo La cattura Beh Allora Il fatto che abbiamo La cattura Di crab roller Garantita Ci permette Forse Potrebbe essere Però una lettura Ci potrebbe Permettere Di giocare Questa parte Di gioco In maniera Estremamente A brevi termine Cioè Devo saccare Poplio Sacco Poplio Devo saccare Baneri Sacco Buneri Devo saccare Mr. Mime Quando deve succedere Sacco Mr. Mime Non ho preso Le ball Non ho preso Le ball Tentiamo qui Dovai di crab roller Vado di crab roller Vado di crab roller Vado assolutamente Di crab roller Cioè perché Se non Se non Prendo un tipo Lotta Non ho nessun'altra Corsa Avevo battle free Potevo inventarmi Qualcosa Avevo le polveri Potevo addormentare O colpire I repel Ah buona idea Bravi Vediamo anche i repel Poi vado un attimino In bagno Prima di andare a fare Le catture Che devo fare La plin plin Direbbe Chi è che faceva La pubblicità Della plin plin A parte del Piero L'altra tipa Chi è che era Non mi ricordo Mi viene Federica Pellegrini Ma non credo Che fosse lei Lei faceva Quella dei pavesini La canalis Bravo Cazzo Ho mancato Ho missato Una parte fondamentale Della cultura La chiabotto Avete detto 50 nomi diversi Fa niente raga Vi ho voluto bene Lo stesso No dio porco Crab Crab De che Cioè devo parlare Con il tuo Con il tuo fratello Non basta Wow La spiaggia Big wave Ce l'ho già andato Dimmi che non Devo tornarci Ah ma devo Proprio parlare Io odio Questa cosa qua Che non mi lasci Libertà Te lo giuro Vabbè vai Andiamo la spiaggia Big wave Con chi devo Parlare Oh questo qua Sarà utile In generale Ma devo proprio farlo Oh merda Devo fare Me l'ho dimenticato Devo fare Il surf Maintain Nello specifico Vado a pisciare E poi lo facciamo Arrivo Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccomi qui. Di nuovo a te, signore. Eccomi qui. Parla, commenta. Non ha funzionato. Cosa devo fare? Ah, nulla. Beh, è andata. Ok, a posto. Quindi ora posso andare avanti? No. 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 E perché no, fratello? Ti sembriamo dei mocciosi. Axel, grazie per il ride. Benvenuti. Non lo so fare. Benvenuti. Noi stiamo giocando qui i Pokémon Ultra su... Calma. Siamo arrivati qui a giocare Pokémon Ultra Luna. In... Trashlock. Quindi Hardcore Nuzlocke. Ma... Con i Pokémon Bot. Sotto 400 di base stats. Siamo già al terzo tentativo e ci sta... Carriando... Ma è un giugno. Eh? Che bello. Me l'avete... Me l'è già venuto qualcuno a... A dirmi... Della Soulink. Molto volentieri. Ho... Ho un po' di... Oddio, però lui su Hardgold l'ha già fatta. E... Ditegli di scrivermi su Instagram. Strà volentieri. O su WhatsApp. Dove cazzo vuole? Se... Se gli va... Molto, molto, molto volentieri. Oh, ehm... Riprendo il discorso di prima. Il mio cervello è andato... Ho subito Hardgold. Perché oggi ho realizzato una cosa. Oggi o comunque... Qualche giorno fa. Che io... Ho sempre detto... Uelala. Martivic. Grazie per il ride. Ragazzi. Benvenuti a tutti. Sono il centro del mondo. Ciao. Anche a voi ragazzi. Stiamo giocando Pokémon Ultra Luna in Trashlock. Quindi con i Pokémon sotto il 400 di base stats. È la prima volta che riesco a dire questa frase bene senza impappinarmi. Io ho sempre flammato Hardgold. Flammato fra tante virgolette Hardgold. Dicendo che è facilissimo in Hardcore Nuzlocke. Spoiler. Non ho mai vinto un Hardcore Nuzlocke Sword Gold. La Type-Lock l'ho persa. La Type-Lock l'ho persa. Quella col Poké Walker l'ho persa. Quindi... Yeah! Sì, fratello, cazzo. Quindi... Sono un clown. Prima o poi dovrò vincere una Nuzlocke Sword Gold. Qualsiasi Nuzlocke. La Kaizu l'hai vinta, però. Sì, ma la Kaizu Ironmon non è un Hardcore Nuzlocke. È molto peggio. È tecnicamente più facile di un Hardcore Nuzlocke. Da un certo punto di vista. E quindi siccome... Quando penso ad Axo, penso al platinaggio di Hardgold. Mi è venuto in mente. Però lui l'ha già fatto una solo in Sword Gold. Quindi non... Sarebbe da vedere. Ok, Team Skull. Dice tutto. Ma devo affrontarli, secondo voi? Perché nel caso spero di avere Zubatelid. Noi andiamo a surfare. Ok, no. Penso di non doverli affrontare. Vai. Allora. C'è ancora la musichetta del Team Skull. Quindi la mia esperienza in termini di Pokémon mi dice che devo andare a parlargli. Oh, cazzo. Meno male... Meno male, ragazzi, che... Potevo andare a prendere effettivamente il Pokémon al cimitero, eh. C'era la strada. Vabbè, detto questo. Vai. Soulink Nero e Bianco 2. Cazzo, Nero e Bianco 2 è un botto che non le gioco. Veramente tanto. Penso che siano quasi tre anni che non porto una serie su quella roba. Oh, cazzo. Tocca overcappare Mime Junior. So Zubat non ha a morso. Ok, ha morso. C'è che poi... Flinch? Ok, botta. Buono. Crit comunque l'hai riuscito a prenderlo. Stavo pensando che forse effettivamente Mime Junior si potrebbe overcappare tranquillamente. Però se devo affrontare l'altra recluta è un problema. È capito? Perché contro l'aticate non lo userò mai, Mimo. Però se devo affrontare quest'altro... Ok, no, vedi. Vedi quanto puoi conoscere come funziona un gioco ti aiuta in una Nasalock. Qui ad esempio io non ero sicuro che dovessi affrontare solo uno del Team Skull. Quindi avrei potuto agire in maniera diversa. Ora, in questo caso non è stato... Non hai inciso. Però... Però... Per loro tutti consiglio una challenge senza evoluzione. La difficoltà è bella tosta. Quanti? Grazie. Io... Io... Ti prego dimmi che stai memando. Perché se non stai memando... C'è una situazione interessante. Ok, quindi ora Krabblower si è arrivato dai marroni. Merda, ma c'è lui. Non bene. C'è una situazione molto interessante. Molto interessante. In caso non fosse un meme. Allora, dobbiamo andare al cimitero. Qua... Merda! Oh, i repel. I repel, i repel. Ce li abbiamo. Bella col chat. Bravi. Vai. Allora, devo stare attento agli allenatori. E con questa telecamera non è mai facile. Ma è lì una teorica. Ok. Anche una run senza usare attacchi è molto interessante. È vero. Ok, cimitero di a wall. Non è che ci sia molto da dire. Bisogna semplicemente fare la nostra cattura. Gastry avrebbe maledizione. Che ci potrebbe cavare fuori da situazioni rognose anche in futuro. Zubat è l'unico che può indebolirli correttamente. Facendo boss. Prima di momento, maledamente. Driflun boss. Mezzo interessante. Andiamo a chi ha. Se hai misdrivas, non vale. Driflun. Ok. Oltre a scoppio, questo po' comunque... Cos'ha di utile? Posto che scoppio, non è utile. Allora. Io potrei provare a confonderlo. Per indebolirlo un pochino nel cielo. Grazie Brio per il Prime. Benvenuto. Occhio che in questo gioco qua è molto facile mi scliccare per fuggire... Fuggendo dai selvatici, eh? Parlo per esperienza, quindi... Immaginate come ero... Come ero... Fossilizzato durante la... La Shiny Lock. Con questo menu a caudi che mi fa impazzire di dolore ogni volta. Ok. Megaball. Gioco poco quando devi disegnare il Poké Walker. Bella idea, bravo. Mi piace. Uno. Due. Tre. Fammi vedere come possiamo sfruttare sta roba qua. Oh, contro Ala è ottimo. Contro Ala... Ala non mi sembra essere un problema. Mi si diventa sta qua solo di notte. Ah, ok, ottimo. Perfetto. Allora meglio così. L'avevo visto ma non ci avevo fatto troppo caso in effetti. Ma mezzo coglione sto vagono. Che mt ci sono al Surf Mantine in caso? Forse... Comunque devo smetterla di chiudere Chrome. Fa vedere. Oh, prende staffetta e accumulo. Più amnesia. Forse potresti inventarti qualcosa con staffetta, con sto Pokémon. Non è che lo veda troppo sul pezzo. Qualcosina potrebbe inventarsi. Vai. E poi resta esatto. Resta comunque uno spettro con le immunità. Raga, bravi. Avete ragione. C'è una neatrice? No, direi che no. Ok. Ora. Signor no spettro è ottimo, per carità. Il punto, sapete cos'è il punto? È che in quel percorso lì si trovano solo spettri. Quindi se proprio dovevo sceglierne uno preferivo Gastly Maledizione che banalmente contro certi dominanti potrebbe essere una... una call che è suicida, ma pur sempre una call. Ammesso che entri. Ora che ci penso. Ammesso che entri Maledizione sui dominanti, ma non credo che non entri, no? Va bene. Tocca affrontare il signorino qua. Non è vero. Non è mai vero. Allora qua. Oh yes. Come funzionava per Crabrawler? Questa è la nostra cattura garantita. Questo è un ottimo Pokémon. Come funzionava che dovevo cercare bacche finché non spawnava? Cosa ho sbagliato? Questo ne metti io, forse. No. Devo resettare le bacche? No. Questi qua non... Tu mi dai delle bacche? Ok. Thanks. Esperto di bacche, sì. Ma sono quelli di XY allora, vero? Baccacetro. Baccacetro. Oh, grande. Ma era funzionale questo orto? Qui era solo lore. Aveva un'utilità a questo posto? O ce l'ha solo in XY e questi sono qui per il meme? In questi campi non c'è nemmeno una pianta. Vuoi che ti racconti perché? Sì. Siamo venuti qui ad Allora per far conoscere fertilizzanti le bacche anche in questa regione. Prima vi troviamo Castelva e nella regione di Callos. Da quelle parti c'è un orto dove c'è il fertilizzante. Continuiamo. Questa Allora non c'è bisogno di far nulla. Ci pensavo la natura di poco. Non ha prodotto tante buonissime bacche. Ecco perché alla fine abbiamo potuto continuare questi campi. Ultimamente non pensiamo più ai fertilizzanti. Anzi siamo affascinati dal modo in cui le bacche crescono in questa regione. Ok, sì. Mi sa che è inutile. Ok, io ricordo che le bacche dovrebbero muoversi in teoria. Ultra pattuglia. Vai. Sì, adesso ci arriviamo dentro la grotta del coso. Tranquilla. Penso che oggi finiremo il dominante, raga. Che si vinca o si perde, ovviamente. Merda questi. Vabbè, oddio, abbiamo i repel. Abbiamo i repel. E soprattutto abbiamo Maim Junior a livello 12 che ti schiaffo subitissimo davanti perché ho paura che qui ci sia un piccolo problema tecnico. Ora, allora la stessa. Ecco. La stessa è inutile. Guardate i leopardi doni. Fare. Grazie. Scile. Bene. Ciao. Ciao. Merda ma questi qua come fai a evitarli Beh Beh Ci sta il passaggio lato apposta Cioè dici che di qua non spawnavano In effetti poteva essere Minchia sai cosa non mi ricordavo che ti caricassero così Non affrontarmi Non affrontarmi non sono pronto Non troppo bene Mi sa che bisogna masterare le meccaniche di encounter di Alola Mi sa che quelle sono un problemino Che ne ditem Porcaccio il tuo dio Au mamma mia Bene Thanks Non sono uno spettacolo Ok Allora punto della situazione Siamo nella merda totale Ma totale Si è un pigliato Si può dominante Io ho schippato una marea di allenatori Voglio vedere un po' di cose Venite Grotta sotto bosco Quante lotte ho da fare Ma merda raga Il K è 11 Ah no Sole ultra sola Ah no Ok Sono Luna e ultra luna Ci sono questi pokemon da affrontare E all'arena del dominante C'è lui Che è 12 il K E va a difesa più uno Va bene Allora non posso affrontare allenatori Raga Perché sono al limite Col cap Sono uno sbrego di rata Tai di rati Kate Ce li gestiremo Con Zubat Barra Ekans Sguardo feroce Drift non lo toccano Si beh I ratatap Ah no Beh è vero Neanche Neanche Raticate Perché Beh non il dominante Però il dominante è mors Però è vero In teoria Drift Luna è safe Con le battaglie E va bene Sì ma il dominante Tu che dici Tu al dominante Che gli dici Breccia al mimo Mi spieghi come glielo do Breccia al mimo Porcaccio dio Non ce l'ha È al 12 È al cap C'è un mt Qualcosa In questo momento Barriera botta Confusione copione Me lo spieghi tu Come glielo do Breccia al mimo Io non lo so Se me lo spieghi Molto Mi fa piacere Dentro la grotta Perché c'è un mt Ah ecco Però va detta sta cosa Quindi Quindi Sì ma breccia al mimo Ragazzi gli fa poco Questo peraltro Agile tecnica Manco scopio Quindi non posso nemmeno giocare Al videogioco dei suicidi Quell'altro non ha intimidate Quindi non posso No Natura negativa La difesa Dai Almeno magari Tancavo Poteva fare A quel punto Davvero Sguardo feroce E poi mandavi mimo Che allora Lui va a più Di difesa E noi non abbiamo Attacco fisico Però magari Qualcosa succedeva Eh vabbè Quante ostica mele mele Quante cose Ci sono andate a fare Grotta sotto bosco Non c'ha cattura No Vabbè Senti Ah io non so Quante vi abbia Ovviamente Però non ha Tanto attacco fisico Sta roba Non ci shotta Ekans Con Byte Probabilmente Possiamo Con Ekans Cercare di Parrarlo Droppare qualcosa E poi E poi Entrare di mimo Far danni E poi Con lui Parrato Cerchiamo di Portarla a casa Giochiamo un po' La suicide squad Però Questa cosa è capitata Da poco Conto altro che Inoffensivi Qui vi ho anche Un po' Di gran lunga Più forte degli altri Chiamato Poco Dominante Eh vabbè Vai Proviamo Se dovessimo Uscirne fuori Questo terzo try Sarebbe veramente Il try Della monnezza Totale Giochiamo solo Con Drifloon Sì Anche quando c'è Dopo il team Skull Contro Si va più che bene Ma come funzionava Questa prova qua Che dovevo Cercare qui Il problema Sarà il compare Del dominante Beh il compare Del dominante È un ratata Cioè nel senso Sì è un problema Però Adesso Dire che il problema Sia il compare Del dominante Boh può essere Però Azione Attacco rapido Focale energia Colpo coda Direi che il dominante È più problematico Del compare Del dominante Ovviamente Sarebbe meglio Se non ci fosse Ma questo Lo sappiamo Comunque generalmente Una volta che abbiamo Killato il dominante Poi gli altri Ce la possiamo gestire Questo non si può Catturare No non mi sembra Comunque è incontro Garantito Quindi non varrebbe Come cattura Cioè non si è Non è incontro Non garantito Scusami Scriptato Quindi io non me lo farei valere Di base Sconfiggere ancora due Poco E vai Oh raga Vediamola così Nel caso Giovedì pomeriggio Si riparte Con il try Questa è la roccia No non è la roccia Di Ok vabbè Non è la roccia Di Ivy Qua si trova Ok Qua si trova Il Il Come si dice Cioè la roccia Si trova Al bosco Di Lurantis Di cui non mi ricordo Il nome Giusto Vai tanto lì Non ha modo Per colpirmi Raga Driflum fa un buon Anzi possiamo Velocizzarle un po' Stelotte Vai Driflum fa un buon Lavoro Capito Una volta che riusciamo A parrare Del dominante Poi possiamo sperare Anche in qualche Parax Non è che Si fa reato A Paraxare Ok Secondo Pokemon Trombato Ok Qui come funzionava Il puzzle Qua c'è un item Intanto Vai a prenderlo E forse Scendendo Di qua Vai E questa qui È vuota E noi dobbiamo Andarle sopra Ok Vai Ah Fa il giro Va bene Ah tra l'altro Dobbiamo cercare Sta minchia Di MT Di breccia Giusto Come funziona Esattamente Eccola qua Va bene Dovrei fare tutto Il giro Ma ce l'abbiamo Ok Stava andando Tutto benissimo Finchè non sono arrivati Loro Dai si va bene Questo c'ha Drowsy raga Con Driflun Si Si gestisce Vai Ma è con Crabrawler Inutile dire Che con Crabrawler Sarebbe stato Tutto molto Più semplice Ma C'ho Il nerf Del fatto Che è la mia Prima Hardcore Nuzlocke Su questi giochi Quindi alcune Meccaniche Le devo imparare Tipo il fatto Che in quell'erba Non ci devo mai andare Perché arriva Ekans Tipo il fatto Che Boh Magari prima di Liam Fattelo un plan Che mi ha colto Impreparato Poi certo Se becco solo Baneri in paccio Ci posso fare Il giusto Ma Non di certo Benissimo Quindi Hai proprio idea Di quello che ti aspetta Più in fondo Dammi retta Sì d'accordo Ciao Via Via Team Skull Via Team Skull Dai che sono già Abbastanza Complessa È già abbastanza Complessa La situazione Dove ho perso Crabrawler Cioè Non l'ho perso Come pokemon L'ho perso Come cattura Ho perso La cattura Perché mi è arrivato Addosso Ekans E quindi Sperando Che Driflum Non salga Al 13 Ma non dovrebbe Sì sì È solo Da prenderle E metti tranquilli C'è nella mia testa Come informazione Vedi te Se una mia call Deve essere Mr. Mime Breccia Gesù Cristo Imbarazzante Poi In tutto questo Se riuscissimo A salvaguardare Mr. Cioè Mime Junior Contro ala È buono Oltre ad avere Forse un paio Di altre catture Non mi salire No Non dovrebbe Dai Ma porco dio Ma come ha fatto Ma come ha fatto A salire Con 320 Al 12 Ma Mr. Mime Con un terzo Stava a 2,90 Nientra che Non c'è verso Questo 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 Trai È cursato Serebbe quasi Da farci Un video Il Trai Più La Hardcore Nuzlocke Più cursata Che abbia mai fatto Questa 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 È proprio Tanta roba Niente Siamo Contra Pogon Questa Questa È il tentativo Di hardcore Nuzlocke Più cursato Che abbia mai fatto Ragazzi No Non ricomincio A prova Da capo Vabbè Driflu Sta lì Niente bro Portali al 12 Ci proviamo Raga Che vi devo dire Sguardo feroce Col Millenaria E poi andiamo Di full Mio sguardo Se abbiamo Tempo Ne va Avvolgi Botta Che tanto Voglio dire Zubato al 12 Attacco Da Pazzo Vai Di Oran Oran E cedro Direi che Non risparmio Nulla E vai Di breccia Assumai Un gioco Leva Botta Come vedo Le regole Punto scolativo Trashlock Sta scritto a schermo Scrivilò Come sta scritto a schermo Vabbè Ehhh Ottimo meme In caso Questo terzo Trime Ottimo meme Se non riesco a vincere Perché drift Non è salito Al 13 Potrei dar di matto Buon game Signori Non penso Che sia Fattibile Nel caso Si va Dritti Finati Al tentativo 4 Dalla prossima Settimana Cioè Dalla prossima Live Che è giovedì pomeriggio Senti uno sguardo penetrante fisso su di te Vuoi prendere il cristallo Z dal piedistallo? Eh prendilo Vai No eccoci qua E' apparso Raticate Bene Plan Sguardo feroce In tubo Il plan è sguardo feroce In tubo Vediamo un po' come gira Sguardo feroce No flinch Crit Buono Ci sta Buono il crit Ok E' entrato E' entrato Per ora Bene Cioè nel senso Ha critato Magari anche no Però per ora E' bene Full min sguardo Ad area Ok Bene Se rimane parlato Raticate Si gode Ok Va bene Shield Urkugiu Ha tirato fisso Ah Vedi te Tira visotrucce Perché si vede Più lento E questo ci frega Coso però Vabbè ok Free switch Eh Sack di Ekans Eh con un visotrucce Più veloce Ok Ora questo Ora questo Sta più zero Potrei provare a fare super suono Di Zubat Non è un'idea oscena Cioè questo vuol dire Sacrificare quanto mi è più caro Ciò che più mi è più caro Fa niente ragazzi Tra l'altro Tra l'altro in teoria Se lui vede Zubat Forse è invogliato A fare visotrucce Sto pensando Ha un senso Non mandare ora Maim junior Zubat Non può mai Troppare No vai di Mimo Tanto anche Zubat È ottimo Contro Ala In caso Siete pronti Per vedere questa Per quattro Secondo me Raga Non fa più Del 20% Ok Mimo Fra 0 di attacco fisico Dove l'ha pescato Con 12 di attacco fisico Dove l'ha pescato Con 12 di attacco fisico Però questo ha 70 di difesa Non è male Ok 20% Forse sono stato Un po' mimoso Ma Switch subito Sì 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 Sack di Zubat Sack di Zubat Dobbiamo fare così Minchia abbiamo rischiato Un inseguimento Però sono selvatici Mi sono rischiato Un 25 Ok Fra non ho idea Di dove abbia pescato Quel danno Ma va bene Minchia che è fucilata Sì grazie Lo so che è una per 4 Ma che parte da niente Di attacco fisico Ok Ora io che ti dico qua Probabilmente Voglio super suonare Il teammate Perché Raticate viene giù Ma quel ratata Potrei mettere in difficoltà Mimo Ok 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 Jun Mimo Se è il finta Ti ho vinto Forza Ragazzi L'ho portata a casa Con cazzo Di Mike Junior La run È ancora Viva La run È ancora Cazzo Viva Non ho idea Di dove Di dove abbia pescato Tutto quel danno Di breccia Mi sarei spettato Massimo Un 40% Non pensavo fosse Due hit Non ci posso credere Più quattro morti Ma ce l'abbiamo fatta Che bravo Fui mi sguardo E ne ho tirato Solo uno Ragazzi Era a più zero Di difesa Perché lui sale A più uno Capito Fosse stato A meno uno Sale a più uno Magari ho letto male Eh no Era a più uno Di difesa Quindi con Fulmi sguardo L'ho mandato A più zero Non ho idea Di come sia successo Ma l'importante È che il tentativo 3 è ancora vivo Uno dei tentativi Di Nuzloc Più brutti Che abbia mai partorito Ma ci siamo Let's go Siamo ancora Cazzo vivi Adesso siamo in giro Con Driflum Mime Junior Vai Normium Z A posto Vai Thanks Non voglio mai più Vedere questa cosa Sono quasi tentato Di provare ad andare Minchia ma adesso Ragazzi c'è L'ultrapattuglia Con Fru Fru Ma come la fai? Aspetta Con Driflum Con Driflum Dimmi che non hanno mossa Ti prego Dimmi che non hanno mossa Grotta Prato Mare Una mossa Per colpire Driflum Ok Sta andando Sta andando tutto Nella maniera Più storta Possibile Questo tentativo Santo Dio Che inizio Vai E il mio è il goat Di tutto questo Allora Sentite Io reggo voglia Di andare avanti Proviamo a Proviamo a chiudere Mele mele Proviamo a chiudere Mele mele Ora il cap Di ala Quanto è? Adesso faccio la cattura Nella grotta Tranchi Quanto è il cap Di ala Molto importante Non credo che sia 54 15 Ok Per ottenere la forza Mi si deve potere Z Dimmi tutto Vai Eccoci qua Per riuscirci Contano solo Sulle loro forze In questo modo In questo sono ben diversi Da noi che cerchiamo Di risolvere tutto Con il potere della scienza Ci mettono a prova in prima persona A dirla tutta Lo trovo ammirevole Piacere di conoscerti Io sono Mirin E tu? Sei? Siron Con la mano moscia Ci sta Beh probabilmente Dovrei dire Alola Eh no ma si sta Crezzando il baffo L'ho capito adesso Scusate Siamo qui ad Alola Per condurre delle indagini Sui cristalli z Per motivi che al momento Non mi ha dato spiegarti Devo ammettere comunque Che trovo molto interessanti Quelle sfere che usate È possibile che in futuro Le nostre strade Si incroccino di nuovo Ciao Vai Lo so che Driftons for a level cap Tenti Con gli allenatori Tenderò schipparli tutti Ma mele mele È tradizione Oh grotta sotto bosco Ma la cattura È garantito Rattata di merda O Il cazzo C'è Diglett di Alola Garantito Se non becco Rattata in agguato Oh sì Allora Oh sì Oh sì Diglett Di Alola Utilità Tre anni che ti seguo Perché o è Diglett Che è garantito Camminando a caso Perché Zubat L'abbiamo già preso O è Rattata L'Olam Rattata Per ultra necrozman Ci sono molte soluzioni Per ultra necrozman O è Probabilmente Digletta Lola per il fatto Dell'immunity Non è male Radata di Alola non ha gaz C'è anche Noibat Noibat è un gran coglione In effetti sto guardando solo sole Ah merda c'è Noibat al 30% Dici che non è garantito Stavo guardando ancora solo il luna Qui abbiamo Digletta di Alola o no C'è da dire che Digletta di Alola c'è letteralmente un posto Dove credo che ci sia non dico solo lui ma Quasi solo lui Noibat raga sarebbe Proprio un coglione Fammi vedere Radata come è messo di moveset Cosa vuol dire che Radata di Alola non impara nessuna mossa salendo di livello Che senso Che vuol dire sta cosa Digletta di Alola e Drifloon si coprono benissimo Sì in generale No allora Questo io lo so anch'io Ehm Il mio punto Dove cazzo sono le mosse che imparano sti Pokémon Sotto gli sprite nella wiki Porco dio Ma perché la wiki non ha le mosse che impara Radata Sono impazzito non le vedo io Descrizioni del DEX Dove si trova Negli altri giochi Strumenti tenuti Statistiche Ed io spin off Motarsack bro Ok Ma forse perché Com'è l'orati che ti ho d'ultri eventualmente No nessuno dei due Il problema è che quest'altra wiki Non dice Ma poi scusami ma com'è possibile sta cosa qua Cioè ma ti pare che non trovo le mosse sulla wiki Learn set Ah ok l'ho trovato Chill Perché era impostato sulla nona gen Ehm Il nona gen Non si incontra come Pokémon Quindi Allora impara delle belle mosse Super fang Ah forse vado di rata T'ha garantito raga Super fang potrebbe darci una bella call Poi forse ci fa anche Delle close Interessanti Diglett è forte raga Il punto però Secondo me Scusatemi Poi ho dei cadavere Il punto secondo me Ehm E che Diglett C'è la grotta Diglett Cioè E' praticamente sicuro Che lo otterremo Grady Gates 4 Assolutamente si Grady Gates E' un 4 e 14 Quindi si Ok vai prendimi Prendimi fammi tu Fammi tu Fammi tu Fammi tu Fammi tu Vai Radata Terzo Pokémon Allo stato attuale del team Non benissimo Dai punto ad andare fino a Ad Akala raga Cioè fino a Ad Ala E quindi Automaticamente fino ad Akala Come boll come sto messo Ne avevo preso tante no? Sì Vai No immediatamente Non ho bisogno delle immunity Tutto sommato Ecco Sarà molto utile Avere Avercelo Semmai per Per Chris E per Togge de Maru Quello si Eh ma come lo indebolici tu questo? Non è che ci sono molte Molte Outta Cioè Con Breccia lo ammazzo Le altre non hanno effetto Se entro con Driflun Me lo scoppia Capito? Perché è un palloncino Vai Dentro la ball E statene pure zitto Ti direi GG Per Continuare Non c'è mai con Breccia Sì non penso che però Mai mi arrivi fino a quel punto Del gioco raga Vi ricordo che non può diventare Mister Mime Per le figa di regole Di questa sfida Ok Ciao Rattatam Benvenuto Nella Nella nostra Incredibile famiglia Chissà Oh poi Magari Cioè che ne sai Magari Davvero può essere una call Per Necrozma A giocarlo con la Sesh Oh io penso che ci sia Roba migliore Tipo Seblay Che in teoria possiamo ottenere Quasi facilmente Non c'è altro che deridero Non credo in lui Ma in junior No non è che non credo in lui E che obiettivamente Io non penso che possa essere Un a costo Che De Maru In giro per Almeno non per killarlo Fai dei sbaramenti Sono le barriere del capitano Oltre quali barriere Viva un po' con temibili So di dover passare Bisogna essere comuniato Un altro esperto Va bene Thanks Vai Ma in junior Call per la lega Pokémon Altro che Bene Ultima fase di Mele Mele Ciao Cucu E mi devi dare qualcosa Non mi ricordo Inizio a velocizzare A manetta Non va il velocizzatore Ora va il velocizzatore Diamo Sembra soddisfatto Come funziona il potere Z Oh Cristo Dio Sembra Ah ma veramente Ok Sì all'iSwitch Ero battuto Raticate In qualche modo Con Mime Junior breccia Ma ce l'abbiamo fatta Bene E perdendo due Pokémon Ovviamente ma Questo try È un grosso meme In realtà Sarebbe bello Se riuscissimo A raddrizzarlo In qualche modo Ok Punto della situazione Ragazzi Punto Molto importante La situazione Allora Porta la data Al cap Intanto Bene Ora Qua ci sono un sacco Di allenatori Ma gli allenatori Li schippo Non perché li voglia Schippare Ma perché Il level cap Qui è un incubo Questo è il percorso 3 Cosa c'è Sul percorso 3 Oltre ai Pokémon Volanti Che ti cadono in testa Dobbiamo stare attenti Qua me li ricordo Rattata Spiro Ma anche i Delibird Ti pregono Questo però è sole e luna Magari Magari sul trasole Aulucha Vabbè Aulucha non vale Cutiefly Ribombi È Una pick O è troppo alto Di stats Di base stats 4 6-4 Ribombi Minchia che Pokémon Cutiefly Ma Ha un po' di utility Ha un paralizzante Spiro Vabbè lo conosciamo Ma anche non sarebbe Un brutto Pokémon Zona erbosa Sud del ponte C'è il famigerato Begon All'1% In agguato Ci sono Spiro Rafflet E Bullaby C'è ancora Crabrawler Garantito Tipolotta Ci tornerà utile Beh Crabrawler Ha 82 Attacco fisico Potrebbe essere Un'idea Rispetto a tutti i Pokémon Che ci sono qua Questo è garantito E Ha un crescipugno Banalmente Non so In che contesto Mi torna utile A contropiede Stordipugno E partono Buona Statistica Di base stats Sui pugni In generale Un buono Sui cinna Vero Quindi augusto Per dire Sto pensando Allora Il punto è che Crabrawler Sarà un Pokémon Molto spesso Garantito No Quindi possiamo Prenderlo Secondo me Più o meno Quando Ci capita Cioè Quando ci torna Più comodo Non penso Non penso Che contro Un Aracuanid Contro Un Maru A Calora Figuriamoci Posa tornare utile Potrebbe esserlo Contro Alixia Contro Alixia Che è i tipi Roccia Potrebbe essere Una buona Opzione Però Crabrawler Vi dicevo È sempre Più o meno Garantito Cioè Si trova Più o meno Su tutti I percorsi Vullaby È buio Volante Ma che me ne frega A me di Vullaby Però Sai cosa Qui Cioè Rufflet È un buon Pokémon In realtà Anche lui Ha 83 Di attacco Fisico Vullaby Ha uno Pseudobot C'è anche Da dire Che Vullaby Con Level Condense Diventa Bello Tankoso E ha Congiura Cazzo Vullaby Serebbe Vullaby Barra Rufflet Serebbe Ma Vullaby Scusami Ah Ok Rufflet Non ce l'ho Ho Vullaby Al 30% Altrimenti Spearow Eh Infatti Non mi tornava Le percentuali Rufflet È esclusivo Di Ultrasole Perché Spearow Ma anche I Li Vi lascerei Perdere Però Qui Secondo me Vullaby 30% Potrebbe Svoltarci Un po' Di roba Vullaby E Vol Condensa E Congiura Potrebbe Fare Un buon Lavoro Perché Allora Il discorso È che Adesso Abbiamo Un tipo Lotta Come Coso Quindi Siamo Ce Lo Mangiamo Vullaby Un sacco Di BST E poi Impara Congiura Nero Pulsare Etere Lama Che Con Un Evolve Condensa Vero 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 Staremo Già Al 46 Però Non vorrei Dirti Che è una Coldalega Però Hai Adulazioni Hai Spennata Come M M M M M M M M Secondo me V Allora È un 30% Probabile Che Becchiamo Spiro Però Crab Roller Ce l'abbiamo Su Tanti Altri Percorsi Capite che Intendo C'è Crab Roller Secondo me Ci può servire Con Alixia Quindi con il Secondo Kauna Però ne abbiamo Di zone Dove prenderlo Scusami Il percorso 4 È sempre a mele mele No è già Da cala Quindi noi qui Come catture Abbiamo Il prato Mele mele E questa Sì Lo trovo In un sacco Di percorsi Aldo Sarebbero Da controllare I percorsi Ovviamente Allora Ci sta Al prato Mele mele La linea Evolutiva Di Caterpie Al 20% Poi Petit L'Alventi Flabebe Alventi Oricorio Alventi Ma Oricorio È fuori Dei giochi E cutie Fly Ah C'è anche La grotta Dova affronto Frufru Bravi Stavo Stavo pensando Che Perché magari Il ragionamento Che facevo Con crowd Brawler Lo possiamo fare Anche con Vullaby No Eh no Si trova solo Sul percorso Tram Poi abbiamo Il prato Mele mele Dove tentiamo Comunque Butterfree Potremmo provare A prendere Cutie Fly E avere una Close in più Per Butterfree Eh ma Cutie Fly È un altro Che qua Sta al 30% Cioè Non è garantito Però Aspiro Al 30% E Cutie Fly Al 30% E alla peggio Mankey Che potrebbe fare Il crab Brawler Forse Sai che Però cazzo Vullaby Mi arrappa Proprio Ragazzi Cioè Vullaby Puzza proprio Di god Però le catture Nell'erba Sono tutte Funzionali Vi faccio vedere Ops Aspetta Scusate Vi faccio vedere Cioè Noi avremmo Eh possiamo guardare Anche qua È indifferente In realtà Noi avremmo Spiro Eh ma Spiro non ci Locca più Vullaby Scusami Perché il percorso È lo stesso Se beccassimo Cutie Fly Avremmo Al prato Mele Mele Una Close In più Per Butterfree Sai che potremmo Schippare La cattura Al prato Mele Mele Famo le catture Negli altri prati Poi torniamo qua Cazzo Vullaby Sono d'accordo Nzelmi Vullaby Ha proprio potenziale Caderpy dove si trova In sto gioco Giungla Umbrosa Percorso 5 Sono su sole e luna Sì va bene Sulle catture A parte che No Ah ma Potrei anche provare A prendere Vullaby In maniera più furba Cioè cercando degli spot Per catturare Spiro Ah ma gli spot Sono finiti Senti io Proverei Vullaby È l'unica È l'unico spot In cui possiamo giocarci Un 30% Per prendere Quel Pokémon A me sembra Molto forte Mi sembra un Pokémon Da endgame Io provo Vullaby Nelle ombre Ragazzi Ci dice male Abbiamo Spiro Però Qui secondo me Sono tutte catture Che boh Ci aggiustiamo Non so come dire Io penso che Schipperò la cattura Al Prato Mele Mele Perché attualmente Butterfree Non mi serve E vorrei renderlo close In teoria Con gli altri prati Dovrebbe essere Abbastanza semplice Penso che Flabbebe ci sia sempre Origorio Blind Cutieflight Si trova ovunque Proviamo Dai 30% Dai Yes Ok Calma Che questo qua È È un animale Oh Finalmente Una percentuale Presa Cristo Morso Tiralo Per fargli Un po' Di indebolimento Non gli fai niente Perché è cazzo Di pull Spennata Aio What Ah Entra di Mime Che è la difesa Più alta Di tutti Puntualmente Va sull'attacco Speciale Ma va bene Ok Sapete cosa Non ho considerato Forse il catch rate Let's go Let's go raga Questo è uno E' uno E' uno Dei candidati Alle violete Pokémon Un pannolino Bellissimo Bull Come Pokémon Mi fa impazzire Ok Sono dimenticato Che c'è una lotta Con Awank Vabbè Lo gestiremo Allora Io ti skiperei La cattura Al Prato Melemele Perché Butterfree Secondo È un'altra Roba Che Oh Prato Melemele Vieni qua Prato Melemele Abbiamo Caterpie Caterpie Metapod Metapod Butterfree Che sommati Fanno il 20% Di quella linea evolutiva C'è Petilil C'è Flabebe E c'è Cutiefly Vorrei trovare Dei percorsi In cui catturare Questa gente qua Oricorio È Overcup Tra l'altro Flabebe Floette È un buon Pokémon Allora Cutiefly Dove lo potremmo Catturare Dio merda Davvero Si trova In così Poche zone Ironico Solo al Prato Melemele Cioè Petilil pure A sto punto No Vedi Giardino di Mali Non era Bruttissima Come Cola Allora Flabebe Solo al Prato Melemele Non riusciamo A renderlo Close Cioè Riusciamo Solo A prendere Petilil In giro Forse Qualcuno Se lui Come mai Creepy Non partecipa Alla Pille Perché Polly Mi ha tagliato Il cazzo Eeeh 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 Allora Perché c'è L'area Centrale Paras Bones L'Estrambic Fomantis Morello È impossibile Fare close Ah ok Penso che Penso che Uh No Penso che Proverò a fare La cattura Nel Prato E quel che Succeda Succeda Non abbiamo Molti modi Per Per gestirla Altrimenti Purtroppo Non vedo Altre via Di uscita Vediamo La natura Di Bull La più bravi Fa vedere Vabbè Meno speed Va anche bene Più attacco speciale In realtà Paradossalmente Non è male Allora Becca Affilato Ottimo No Non è malaccio La natura In realtà È considerato Che lo vorremmo Giocare di congiura Ok Prato Mele Mele Per ora Schippo Gli allenatori Poi Anzi Scusami Perdonami Au a che livello È Perché in caso Perché qua fuori C'è una battaglia Con Au Che non ricordavo Non è la seconda Lotta Ma questa È la terza È il più forte Ce l'ha Il 13 Vuole imparare Tanto spada Quartilone Non lo so Vedremo 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 Per ora Non è un problema Tanto Forse Quartilone Non lo prende Per ora Non ti far problemi Che No Che non Non serve Sì Beh Il più forte Ce l'ha Il 12 13 Eviterei Di far gli allenatori Per ora Sinceramente Qua Deviamo recuperare Nebulino Ok Velocizzo Un pochino Nebulino Uscito dalla borsa Mai Ricordiamoci Driflun in lead Non puoi dare back Affilato Sì certo Che posso Ma per il momento Ha senso Boh Non mi sembra Che abbia senso Per il momento Ha senso Andiamo random Possiamo anche Darlo random Eh Quanto dura Questo Eh vabbè Sti cazzo di poteri O di merda Fatemi camminare Che li finisco Minchia Ci mettiamo 20 anni Ragazzi Orca di quella Puttana Per raffica di Bullaby Sì no Certo G È ovvio Per raffica di Bullaby Per carità Anche Anche per raffica Di Driflun Volendo Ma perché Dovrei farlo Ora che sto Facendo una cattura Questo è il punto Sto facendo altro Anzi paradossalmente Mi potrebbe servire Indebolirli Non so Poi valuteremo Di darlo Certo Ci facciamo I nostri calcoli Perdonate Questo cringe Eh però Purtroppo Tocca Cioè il cringe È quello di Rotom Non mio Ovviamente Però Per osmosi Passa anche Allora 20% Di Butterfree E compagnia 20% Di Cutiefly 20% Di Petalil 20% Di Flabebe Flabebe È carino Cutiefly Meh Eh Petalil Meh Butterfree Barra Caterpie Ovviamente God Ok Pensando a chi mi conviene Mandare Per indebolire Ma in teoria Rattata Abbiamo delle coleottero Particolarmente forti Buona fortuna Ma tanto Ma tanto Non ne abbiamo avuta mai Perché dovrei averne ora Oddio Per V Abbiamo sculato Dio Cane Se godo Che catture Dio Se godo Grazie Ricky Per il Prime Oh si Oh si Cazzo se godo Cazzo se godo Dai che ci sta girando bene Wow Non hanno mosse coleottero Non hanno mosse coleottero Che è Crittero Quasi morto Ci sta Butta Drifloon Ah Sapete cos'è la cosa interessante Questo è al 12 Quindi non abbiamo le Le Non ci credo Ragazzi Mi sa che non abbiamo Le Powders Perché Butterfield Impara al 12 Catterfield Al 12 Non abbiamo Le Non abbiamo Poi Sleep powder Io ve l'ho detto Che questo Tentativo di Hardcore Naslock È cursato Cioè per carità C'è il ricordamosse Alla lega È comunque un Pokémon forse Dalle hit game Però non mi è venuto In mente Che qua il ricordamosse È a casa di Dio Né che lui Fosse al 12 Fa vedere Learn set A sto punto Le impara Al 13 Eh ho capito C'è metà po' di mezzo Scusami In Butterfield Al 47 Impara E le danza È comunque Una buona Cattura Al 47 Imparerebbe Le danza Famo che Sta roba È da endgame E non ci pensiamo Più Dai Che ne Dite Famo che È da endgame E chiudiamo Gli occhi Preserve Cercheremo Di preservarlo Di sbloccare Il suo full Cioè Ma uno può avere Una sfiga marcia Di non trovarlo Di trovarlo Solo quando Fa cagare Un Pokémon Senti Lo porto Al 14 Tanto Sto tranquillo Per Alan Andiamo a prendere Delibird Tutta fretta Nella grotta Oh no Non ho ancora Guardato le catture Ma non mi hai fatto Un piacere Dicendomi sta cosa Cazzo di ricordo Mosse al monte Nanna Chila Ma di chi è stata L'idea E vai C'è da dire Che Delibird In realtà Qualcosa Può inventarsi In questa In questa Jenny Impara già Delle mosse Che non sono Regalino Vero Yey Ti contenti Raga Che metapod Abbiamo imparato Rafforzatore State a godendo Anche voi Uh Che run Cursata Mamma mia Vai Non ve ne velocizzo Perché Metti che Eltra i vincenti Magari Finiscono In video E vive E vive Vive Viva Ne impari ora Non hai idea Delle mosse che impara Quel passo di Delibird In questa Adesso guardo la cattura Perché ancora Non so cosa ci sia In giro Che poi Più avanti Dovrò stare attento Anche alle catture Con surf Che qualcosa di buono Magari c'è Vaffanculo Bastardo Ci ho sperato Vabbè raffica Comunque un'idea Culeo morso Leva Rafforzatore Mille bave Non è male Anche se paralizzante Sarebbe meglio Ti direi Imparare per il meme Dai che sono le tue Per evoluzione Per evoluzione Per evoluzione Per evoluzione Allora Va bene Attivo il repello Com'è che si chiamava Sta grotta qui Scusatemi Grotta oltremare Forse No Fai Prato Mele Mele Prato Marem Effettivamente Ci potete arrivare Zubat Psyduck Delibird E Smuchum Quindi Zubat E close Minchia Smuchum Senti Usando surf C'è seal Pescando Ci sono Magical Barbouch L'amo Non ce l'abbiamo Ancora In sto gioco Eh no Lo tieni La collina Scrosciante Si beh Per Barbouch Però Ti direi Ma Delibird È Interessante Vediamo Le mosse Wow Vole Sapere Regalino E per Forbecco Basta In compeso Tramite Mettine Imparo Un po' Ah no Scusatemi È settima Sì no Ok Settima Generazione Tramite Mettine Impara Un po' Non sarebbe Malissimo Tutto sommato D'altra parte Ribadisco Non è che Zubat è close Psyduck 30 Lui 20 E Smoochum 30 Con surf Non c'è Smoochum C'è Seal Che non mi Sembra Abbia Grande Utilità Barbouch Non mi Sembra Un Pokémon Su cui Puntare C'è un tipo Terra con Terremoto Però credo che Diglett Forse Abbiamo Un po' Più di Senso Penso che Entrerò di testa Nella grotta Anche a sto giro Ah Potrà fare una cattura Più semplice Forse Penso che Ero convinto Di avere un repellente Ah Ah ma Forse C'ho Rattata Davanti Al 12 Ah si Vai Si 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 Poi Sono abbastanza Convinto Che siano tutti I Pokémon Che si ottengono Anche più avanti Oh se Becco Smoochum Non so Onestamente Cosa possa Fare Però Va bene Passa da qua Facciamo un'ultrapattuglia Con Driflum Che ci Pappiamo Frufru E via E poi Facciamo la cattura Qui Vediamo cosa Viene fuori Comunque Vecchio Sul percorso 2 Si potrebbe Trovare Spearow In Altri Try Dovessero Essercene Potremmo Valutare Di Di Provare a rendere Vullaby garantito In qualche modo Il punto Il punto è che Spearow Si trova Solo sul Percorso 2 Quindi Non deve Essere Semplice Sicuramente Fa una figura Migliore di Ekans Anche se Ekans È stato Fondamentale In realtà Paradossalmente Per vincere La battaglia Contro Il Dominanta Non fotti Mica Con Ekans Nella grotta C'è la Bilcintura Importante Ma si ottiene Subito O più avanti Adesso ci butto Un occhio Per bene Dopo sta Battaglia Qua Dai Frufru Sei un Pagliaccio Schioppa Il prima Possibile Rompimeno Il Coglione Dai Sei un Clown Non mi Puoi colpire Bro Non mi Puoi colpire Vietato Colpirmi Tra un attimo Tanto Tra un attimo Switch Contro Switch Tanto lui Non farà mai Azione Così mi Resetto Il counter Del Del Della Precisione Vai Questa Lotta Gestibile Gestibile Minchia Comunque Botte in testa Tira Delle Fucilati Mica Da ridere Sto roba La precintura Richiede Taurus E io Questo Volevo Sapere Immaginavo Che non Fosse free Così Però in teoria Taurus Lo otteniamo Tra poco No Quindi Vai Ale Bene Frufru Grazie Per aver Partecipato Per averci Ostacolato Minchia Quanti livelli C'è Quanta esperienza 400 Drift Non abbiamo capito Che sale Molto Vai Thanks Ultrapattuglia Allora Abbiamo ancora attivo Repellente Va bene Curable Vedo di esplorare Un pochino Qui è tutto Con surf Però Giù di qua Vai Voglio stare attento A tutti gli item Ovviamente Eccoci qua Super pozione Va bene Prima Attiva Prima Cerchiamo gli item E poi Minchia Senti che ho sto Abbassa Devastante Questa Osta Ricorda Vedete cosa mi ricorda Un po' Come host La host Del percorso A sud Di Romantopoli Di XY Ho questa Memoria qua Gelomai E questo È un buon item In effetti Poi dovremmo iniziare A ragionare I pokemon Con surf Per ora però Non è che abbia visto Niente di che Vai Abbia il cintura Non serviva evidentemente Tauros Questo è un ottimo Item E giù di qua Ne ho visto un altro Forse No Non è vero Ok Il percorso Tutto in bandanato Esatto Bravo Proprio quello Intendevo Ah Ma la payacala È un'altra cattura Volendo Cioè Quando avremo surf Immagino Tu sei una Sapquesta Molto carina Cioè Nel senso Non tu Nello specifico Ma Lui dovrebbe essere Legato Messaggio del capital Ti prego di consegnarlo Ok Ma l'ho tirato su no? Lui C'entrava con Una questa no? Devi andare qui di notte Bayacala Fammi vedere cosa c'è Anche se non possiamo Ancora prendere nulla Kalae Scusatemi Rattata Ok Immagino che ci sia Una zona d'erba In mezzo al tutto Rattata Slowpoke Tentacool Wing Alphineon Questo è comunque Sempre sole e luna Prima o poi A fine serie ci arrivo A switchare subito Mentai Che è bannato Vi ricordo Remoraid non è un brutto Pokémon È un bot di coverage Instagent neanche Beh impara Signoraggio Remoraid potrebbe essere Una Una pick Volendo Dovremmo Closare Magikarp Se vabbè C'è Tentacool Che è sempre forte Un mentai Con acqua scolo Vero C'è con assorbacqua Vabbè Mentai Che è ottimo In realtà Eh mentai Che dovremmo provare A prenderlo Perché ti tanka Gli attaccanti speciali Come il Criston Ricordiamoci Di cercare Di closare Su mentai Tentacool Wingale Finneon Dobbiamo prendere Questo è un buon Pokémon Se ci servirà Un tank speciale Ricordiamoci Di mentai Perché ha 120 Di difesa speciale Quella roba lì Ha assorbacqua Quindi ci dà Un'immunità Vai Fai sta gattura Dammi subito Delibird Va bene Ok Close D'accordo Fuggi Speriamo di riuscire A fuggire subito Ok Ehm Ripigliati qua Chi è il mio più veloce Che può fuggire Più facile Eh Proprio Drifton Vai Direi che Mentai È un Pokémon Che potrei volere Psyduck Buono perché Ci aiuta Un pochino Contro Au Questo Che altrimenti Senza Antimeteo Ok Che altrimenti Senza Cosom Senza Poplio Poteva risultare Abbastanza Antipatico Invece Qua Ti pigli Psyduck Il suo mestiere Lo fa bene Vai Guarda com'è contento Guarda com'è Corre Che bello Bel Pokémon Psyduck Un Pokémon Che si annunciassero Adesso Nelle nuove generazioni Tutti direbbero Ma è un papero Che schifo Cioè Non hanno più idee Letteramente Le idee Chiosannate Papero È comunque Un ottimo Pokémon Con Delibor Sarebbe sembrato Una monotype volante È abbastanza In effetti Allora Natura neutra E pistola Acqua Ci sto dentro Meno attacco fisico Più difesa Ci sto dentro Ok Portiamo tutti Al 13 Che è il cap Di hop In teoria Ora siamo Più stabili Non penso Che mi Spingerò mai A predictare Gli switch Della CPU In teoria Ora siamo Più stabili Certo Abbiamo già fatto Quattro morti Ma In linea Puramente Teorica Non si è Ammessi male Allora Prossima battaglia È qui fuori Con il cazzo Di hop Che start Che starta con Little Poi noi Batte Pikachu 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 fa rimpiangere Un po' Diglett Vabbè Vabbè con Mr Con Mime Junior Dovremmo Gestirlo Occhio Non sforare Il cap Unica cosa Vabbè ma Mime Junior Non dovrebbe Sforarlo Vai Scusami Little Pikachu Spesso pulizia Dell'inventario Diamo il becco Affilato A Vullaby Che preferirei giocare Lui al posto Di Driflum Che altrimenti Lui davvero Mi supera il cap Dellabil Cedura Psyduck Large Il polvere Per il king Del meme A lui Risparmiamo Le oramberry E andiamo a parlare Con cazzo Di Cosmog Repellente Attivo Vai Scusami Lilia Mi sono letteralmente Dimenticato Di quello Per cui ero Entrato in linea teorica Vai Andiamo Eccoci qua Bene Pikachu Lo si affronta Con Beh Mime Junior Lo tanca E lo hit E poi In caso Ratat Vai Sono pronto Completato La mia prova Sei il più forte Ah minchia Ma affronta così A tradimento Cazzo Se non mi preparavo Alla fine Vai E poi C'è da affrontare Suo nonno E poi direi Che stacchiamo Che sono già Praticamente Le due E avrò fatto Cinque ore Di ultrasole Ultraluna Oggi Che poi Che poi è solo Ultraluna Questo è un altro discorso Pisto l'acqua Bracere Non mi tornare Bene Sarà antipatico Insidero La lega La lega Credo Effettivamente Avrei potuto Valutare Anche Beh aspetta Eh no Sì lui cazzo È il campione Della lega Qualche soluzione La troveremo Spero In caso Potremmo Valutare Altri starter Effettivamente Non ho pensato Che il suo team Cambia E che lui È il campione Quindi Sì Non Non il massimo Come situazione Ti direi Ecco Sapevo Che sarebbe successo Oh Maim junior Simpatia Non sei simpatico Cosa che mi droppava L'attacco fisico Speciale Fisico Va bene Sarà due hit Quasi Vabbè Maim junior Maim junior Mele mele In ciabatta Comunque Che cazzo Di king Che cazzo Di king Sto pokemon Ok No I button Questo che mostiamo Vedere il team Velocemente Super suonazione Assorbimento Raffiga E manda Bulla Btime Manda Erbullabo In teoria Doresti fare Un lavoro Abbastanza discreto Spennata Sarà due hit Mi auguro Wow Quasi one shot Effettivamente Noibat Ha delle statistiche Imbarazzanti Motivo per cui Non ho voluto Rischiarmi la sua cattura Questo qua era davvero Un peso morto In team Non che Rattata Non lo sia Però Rattata Super zanna Ed è mezzo veloce Magari qualcosa Si inventa Bravo Bullaby Per ora Un hardcore Nazlock Normalissima Vai Andiamo d'ala Hai trovato Lili Ha saputo di poter Contare su di te Complimenti anche a te Si va bene Turano sarà impaziente Che intende Mi deve dire Che devo andare Da Alà Vai Bene Voliamo giù Come se Fassimo vento in coda La sua gag Che è il professore Delle mosse Quindi parla solo Di mosse Ok Vai Tu sei uno Di quegli allenatori Speciali pazzi Vero Ah no Mi davi 3 Spolo mi sa Ah per avere 3 Spolo devo battere Tutti gli allenatori E poi far lui Eh li possiamo recuperare In un secondo momento Quando siamo più tranquilli Questo è un allenatore No Voglio farti il regalo Thanks Calmanella Penso abbastanza Inutile Qui c'è un MT Che sarebbe Raga Vediamo se vale la pena Poi tornare Ah ok Assillo È fisica Assillo È speciale Beh Su Butterfree Potrebbe essere Carina Teniamola a mente Poi con la carica Tauros Possiamo farci un salto E poi L'MT di Trespolo Ci Potrebbe servire Però dobbiamo battere Tutti gli allenatori E oddio In realtà Potremmo anche farlo Potremmo farne Un po' In effetti Per avere Trespolo Non sarebbe Una bruttissima idea Fa vedere quanti sono Io non ne ho affrontato Neanche uno Quanti sono E soprattutto Eh ma Samuele Fantalenatore Mi sa che Tira le zeta Vabbè Comunque Giochiamoli un pochino Dai Questo qua Agroulitz Ce lo possiamo fare Facile Vai Questo C'ha Chagroulitz Ce lo pappiamo In teoria Tanto Level K E 15 Siamo a posto Ciao D'Arti Benvenuto Come sto Stanchissimo Essere stanco Però Bene Dai Siamo al terzo Tentativo Di sta roba Qua Abbiamo perso Due volte In early game Posto che siamo Ancora in early game Ma su ala Sono molto più tranquillo Cos'è che c'ha Machop E crabroller Abbiamo 800 Tipi volanti Non credo che possano essere un problema Poi mi guardo comunque il suo set Per sicurezza Ma Level K Non era 14 No no Di ala è 15 Altro che Di ala è 15 Sono sicuro Vai Controllalo Vai Giovane speranza Battuta Allora mi fa un po' paura L'allenatore L'ipertrespolo A me non piace molto Fare backtracking Nelle mie Nazlock Perché mi sembra Di perdere un po' Il senso Di difficoltà Di queste sfide Però obiettivamente Lui è molto Tostino No Questo è cotto Mi manda Bullaby Che se lo pappa Oddio tra tutti Bullaby è quello che si becca La super efficace Piuttosto Drift Difficile per cui Dove venta Argento Adesso vi faccio Due calcoli Ragam Ma mi faccio Due calcoli Cabronerà 16 Su Usum E' 16 Addirittura Al cap Aspetta Fammi chiudere Tutte queste pagine Ah è vero 16 Hai ragione Forse l'ho guardato Io Solo E' una Eh si Sono un coglione Io My bad Ok Allora Allora Ok Posso portarli anche Di livello più alto Senti lo prova a fare Il tizio con Trespo Lo ma assumo il rischio C'ha un Butterfree E per avere Trespo E per avere Trespo che su Bullaby Secondo me È una picchia importante Banalmente Banalmente penso che Drifflum si Pappia Alla può colpirmelo Drifflum Sì hanno in seguimento Vabbè Makuita Ce lo mangiamo Però effettivamente È un po' Pericoloso Occhio che Monkey C'ha Gran collera Che in inglese È quella che aumenta I hunger point Questa è un po' Un po' Inquietante Eh Mi sono dimenticato L'ultimo Percorso Tre Alola C'è sta una Con Petit E poi Questa qua C'ha Rockcraft Cartel Rosso E Sole e Luna Infatti C'ha Slopo Che Butterframe Questo è infatti Questo è infatti Upside Che ho sbagliato Io Ehm Vabbò Sì Maim Maim Non la manchi Però Amachamp In uso Non penso Sarebbe Sarebbe divertente Ma non credo Che abbia Amachamp Ho sbagliato Avrà Amachamp Ok Spiro Meno male che abbiamo fatto la cattura qui E meno male che non sei stato tu Campioncino Sarebbe divertente Se avesse tipo Un matchamp Al cui tipo Hello Oh sì Grazie Zello Per il Prime Oh sì Ufficiali 1050 Sub GG 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 Sium persino Finito le superpozza Vabbè Ho l'acqua fresca in caso Vai Sì Sì beh Alla peggio Raga Vado a Vado a Lili E mi cura Ma alcuni può comunque esattamente 400 base stats Yes Ammesso che ce ne sia qualcuno Esatto Però tipo Charge bug c'è E 400 BST E vale È minore o uguale Quindi sì Sono validi Posto che Per ora Non c'è assolutamente Stato niente Cioè nel senso Ovviamente La cosa delle base stats Verrà fuori più avanti Per ora Il dramma Era Superare Le prime fasi Di una Comunissima Hardcore Nazlock Di Pokémon Ultrasole Puoi andare dalla Che ti cura Sì ma Crit Ok Giù Immagina se vinceva L'aspetta Ebbè stato Sarebbe stato triste Se avessi venuto L'aspettare Se avessi perso Così mai Ok Ora in teoria C'è il tizio Che ha Slowpoke E Butterframe Io vado Un attimino Da Alan Cioè vado A curarmi Un secondino Perché Quel tizio Lì Non lo faccio Senza Mia madre Mi curava Perché Oh merda Ma ci sono questi Merrill con Macroforza Non dovrebbe essere Male Allora Guarda che Azumeril Però ha 410 Se invece Intendevi proprio Merrill Merrill Il bot Ma c'è un centropoco Ok In realtà Mi vuole dirti Che Merrill Anche con Macroforza È un minion Azumeril Ha 410 Purtroppo Non 400 Meno che Non l'abbiano Cambiato In questa Gianna Ma non mi Sembra Impossibile Fare tre Passi Senza Beccare Caterpie Impossibile Beccare Caterpie Quando serve Tra l'altro Vi ripeto Butterfree Lo considereremo Pokémon Da endgame Che vi Devo dire Allora Il tizio Slowpoke Che non è Banale Ma non c'è Una pagina Che mi dica I set Di questo Figurati Cristo Dio 20 Argento E Terespolo Ah Beh ok È quel tipo Di allenatore Ho capito Vabbè Allora Fai Butterfree Su Slowpoke Che Driflun Dove stava Ho sbagliato Strada Allora Se non sbaglio A parte lui Tutti gli altri Che incontrerò Hanno una Z che tira Vero? È rischio solo Se si busta Ma secondo me Oh Sì Detto questo Contro Driflun Anche no Forse potevo Addirittura Provare a fare Solo con Driflun Però Capace che Driflun Salga di livello Vuoi provare col morso No Mai più Sbadiglio Ah ok Sei uno di quelli Vabbè Senti Mi faccio addormentare Bat Freak me frega Ho sei Pokémon Ha solo sbadiglio? Ok no Ah non fa niente Sta roba Resto combatter Fli un attimino Giusto per Vuoi fare un altro Di poco Solo e luna Anche hardcore Ma non so perché Non ci sto più giocando Eh ma sbagli È un bel gioco Cioè oddio Solo e luna Me Questo è un bel titolo Ok comunque Facciamo di più di Coleo morso Confermato Vai Oh Ok Legit Chissà come funziona La switching AI Di questi giochi Perché qua Se è vero quello che mi dite Non ha una mossa Super efficace volante Quindi l'ha mandato Solo perché Si leggeva Si leggeva resistente E perché Vedeva su Pokémon In range di Minchia che sleppa Ok Ok bravo probabilmente è usato wow porco dio c'avrà lenti fume vedi a non vedere i site della gente questo idiota ha lenti fume wow metà vita ma se c'ha lenti fume si cazzo vabbè sei bussato ok eh ok non ho considerato lenti fume ragazzi a saperlo non ero così pronto vabbè sidehack prova a leggere che devi fare wow ragazzi e niente che vi devo dire mi ha scopato se avessi saputo di lenti fume non sarei mai andato ad affrontarlo perché era evidente con lenti fume era palese che con lenti fume non ce la potevamo fare però non mi ricordavo nemmeno che butterfly ce la vesse adesso che mi torna in mente c'ho i flashback del competitive bell'idea di merda switcharlo ma immagino che tu non abbia più mossa speravo che psaida creggesse vabbè tanto di tipi acqua ne troveremo altri sicuramente se avessi saputo di lenti fume non sarei mai venuto a affrontarlo vabbè abbiamo perso una call per la lega probabilmente per aver trespolo lo so che potevo farlo poi tornando indietro avrei potuto farlo in un secondo momento però mi scoccia veramente fare backtracking cioè batterlo al 60 capo sai che per il tipo algo se vuoi fare l'infame c'è wishy washi sicuro tu sai che è tutta la live che dico che wishy washi ovviamente è bannato per buon senso la ragione per cui ho bannato wishy washi è letteralmente il buon senso frate non ha molto senso giocarlo eccolo qua conjuram questa la piazziamo per sicurezza leva furia per favore not worth non è valsa decisamente la pena gente adesso i flashback dei dei butterfree gigamax lenti fume non mi è proprio venuto in mente per me butterfree insettocchi questa è una leggerezza oggettiva ok non so come gestirli sti allenatori turna grazie per il ride benvenuti stiamo giocando pokemon ultrasole e ultraluna io dirò sempre ultrasole ultraluna perché ultraluna non mi viene mai da dirlo in hardcore nazlock ma possiamo utilizzare pokemon solo sotto il 400 di base stats per chi non lo sapesse questo qua è il gioco pokemon più difficile mai realizzato ah si togliamo gli item da dai pokemon bravi non so come li gestirò questi perché a me è scoccia fare delle lotte pensate per essere così difficili in backtracking quindi quindi penso penso che io gli allenatori di questo genere li gestirò così li posso affrontare solo entro il cap del capo palestra già è del cauna o di quello che c'è dopo di loro fisicamente cioè non posso tornare a farli al 60 avrei potuto livellarmi fino al 15 tutti quanti e affrontarlo con i pokemon al 15 o 16 potenzialmente anche se 16 non l'avrei mai fatto per regioni di cap farò così ciao turna tutto bene dai sto impazzendo un po' dietro questa roba qua oggi però per il resto non male no preferisco copione amica tu come va tu no non ci sei ma stai ancora facendo un po' di kaizo o l'hai giustamente aggiungerei mollato dopo tutti i tuoi try comunque bene dai anch'io ti comunico ufficialmente che mi sta un po' scendendo infatti oggi ci troviamo qua sentite andiamo da la andiamo dal buon alla guarda per tutti quelli che sono arrivati dal raid siete arrivati nel momento di chiusura perché stiamo per fare la battaglia finale di oggi in un tentativo su un gioco che conosco relativamente poco e si vede perché ho fatto sei morti alla prima isola dove effettivamente stiamo avendo qualche difficoltà quanto pare su serbi ci sono anche i settimane dei comuni ah cazzo vediamo c'è oh si grazie blitz per la sub oh si blitz 46 per il prime per il sesto mese per sei mesi route frame allora vediamo perché in caso ci sarebbe molto utile oh bello eh si eh si eh si eh si con questo mi sarei risparmiato tanto bravo grazie per avermi l'ho segnalato hai fatto bene hai fatto bene a tornare su arston è un processo che gradualmente faremo tutti tornando nel nostro credo eh ok va bene allora d'ora in poi consulterò serbi e non e non pokemon central va bene dai tiriamo avanti questo tentativo comunque alla fine abbiamo perso un pokemon molto buono ma magari si trova altro comunque dalla prima isola si esce sicuramente certo che butterfree è un dramma averlo perso è vero che però cazzo sarebbe stato un sonnifero e le danze la lega ma probabilmente perdere butterfree ci ha fregato proprio ci ha tolto proprio un pokemon da lega probabilmente si gestiva robe da solo portiamo tutti al 16 dai bello iperzan grande sta stabona sta stabona togli poca l'energia si no beh certo si fa si va avanti per imparare comunque anche perché c'è nel senso io non so poi quanto sarà punitiva diciamo quindi magari ho perso butterfree ma magari tra seblai che posso ottenere charge bug boh un cadabra level condensa le le robe si magari sarebbe magari riusciamo a sfangarla non lo dichiarerei morto se non altro perché non 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 in grado di tastare essendo che è la mia prima hardcore nazzlock su questo gioco qua raga ovviamente ci sono delle meccaniche da imparare se no non ce la si cava più allora senti alam a sto punto io ma Serbia è un po' più fastidiosa un po' meno intuitiva l'interfaccia di sta roba allora c'è solo la pagina delle trials cazzo ma ci sono tutti i set delle prove grande ma questi qua sono di sole e luna io le vorrei di usum ok eccoci qua ok va bene vorrei tenermi aperto il team qui leggermente come tankare le mostre z facendo gli switch giusti cos'altro posso fare concretamente se non provare gli switch corretti non penso che mi vorrei mai togliere il tipo volante qua però metticela vai o saccando alternativamente no non ho pensato una tecnica nello specifico ce ne sono un po' vedremo il da farsi tra una roba e l'altra allora dai la belcentura Drifloon dai un dai una bacca a maim junior e rata te lascialo perdere sentite io starto con Drifloon lui ha matchup davanti immagino che switcherà su crab roller ma io posso solo che godere perché con la abilcentura è 100% 2 hit quindi sennò immagino che switcherà immediatamente su crab roller ma io godo cioè se switcherà su crab roller è solo goduria per me vai ultima battaglia di oggi signore e signori in un'uscita da mele mele che ha ha dell'incredibile probabilmente vai non non un inizio ottimizzato probabilmente di questa sfida però gli allenatori lì quelli del tizio tipo butterfree deciderò di farli solo entro il level cap successivo quindi se avessi battuto ala non avrei più potuto far loro perché altrimenti li considero parte del cap quindi quindi comunque cioè perché altrimenti non non mi piace la situazione cioè di andarli a fare solo per ricompensore allenatori forti cazzo facciamoli a parte divertente easy crap attento switch a crab roller io godo io sburricchio se switch a crab roller bravo drift ho la sensazione drift che io andremo abbastanza d'accordo sapete che non ci può toccare questo vero probabilmente farà send attack vai tu sarvi ad esempio non trovi l'abilità dei pokemon wow ok le terrò aperte entrambe allora va bene sarà solo un po' rognoso con turbo sabbia velocizza un pochino non mi fa velocizzare ok perché non avevo il monitor non avevo il tutto segnato vai usare staffetta drift non è male come encounter no no buon encounter ho già visto staffetta ha delle call vedremo come ottimizzarlo più che altro ma se facessi switch contro switch giusto per una questione di comunità tanto lui non mi può leggere una mossa lotta quindi al contrario ora è realistico che la legga dentro grande re dei pagliacci questo ma qui è possibile prendere dei roll buono e l'ultimo è un matchup che ha solo focus energy immagino che spammerà solo focus energy buono vabbè questa lotta qua è semplice in realtà e la prossima sarà un po' più rognosa alixia ve l'ho detto sarebbe ottimo avere crab roller per alixia secondo me è un pokemon che fa bene lei se non sbaglio ha anorith lilip e l'ikar rock roccia che mamma mia è difficile messarne così tanta l'ikar rock roccia è antipatico ma crab roller può fare un buon lavoro secondo me va bene easy gg vai una natura di talento con degli ottimi pokemon co 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 ok questo va appena tirato su ragazzi ci stanno probabilmente non vedo anche tu e il tuo pokemon diventate forti per sfidarvi bene il cristalluzetto è tuo cos'è il fight team è capito per crab roller buttalo via buttalo via il fight team z che in italiano sarà il lottium immagino perfetto che belli che siamo vai un po' fascisti ma belli cosa? luctium va bene si fammi il balletto io inizio a chiudere la wiki eh se permetti una prima isola oserei definire disgustosa ma tutto sommato è andata bene vai e ora taurus diventa il bro del poke passaggio direi che comunque stoppiamo ora raga sono 5 ore e 20 di live direi che sono abbastanza sfatto però magari all'inizio della prossima ci dedichiamo un attimino a recuperare tutto quello che ci siamo persi in caso a mele mele vai basta fascismo torna al cimitero che avete ammettito di confidenza che si va più avanti la prendo la prossima volta dopo città tranquillo o tranquilla perdonami non vorrei dare per scontato nulla vai era la mano sinistra non rovinare la gag buffa è una parte divertente che non nessuno deve notare grazie Liam segui i miei progressi dalla scuola allenatori beh è stato abbastanza imbarazzante scusami come li abbiamo persi i pokemon allora buneri sac e vabbè quello ci potevamo fare del giusto poi cosa abbiamo perso beh poplio per poplio sac e va bene e poi vabbè ho perso i due sac dal ratigate i miei errori i miei errori sono stati analizziamo gli errori che abbiamo compiuto errore 1 perdere la cattura di crab roller poplio potrebbe essere salvato forse se si però era una giocata un po' era una hard play secondo con baneri poteva essere salvato non credo che poplio potesse essere salvato ci abbiamo rischiato tantissimo sac di poplio però non è un errore è una giocata conservativa più che altro e ovviamente non sapere il set del tizio lenti fume quindi due leggerezze che però ve l'ho detto sono frutto del fatto che alla tua prima nazlock di un gioco ci può stare soprattutto in un gioco così complesso su alcune cose mai scontato come usum che secondo me è il motivo per cui un hardcore nazlock su questo gioco è difficile ci sono tante cose che devi sapere non andare in quel ciuffo d'erba occhio che questo qua c'è lenti fume e hai un allenatore molto particolare è proprio tosta questa sfida detto questo con 6 morti al terzo tentativo direi che chiudiamo la live grazie per averla seguita grazie per gli abbonamenti per il giga hype train dorato matto nel culo io vedo se c'è qualcuno da raidarvi che oggi abbiamo ricevuto tanti raid quindi sarebbe molto carino eh ma non c'è nessuno sarebbe dicevo molto carino eh rendere il piacere ma c'è sostanzialmente nessuno vedo solo l'inglese nella mia home page quindi eh all'aki poi una cosa che impareremo a fare se ci saranno altri try è magari crearci delle close per ora io ho visto mentaic che secondo me è una cattura importante appena avremo surf dovremo ragionare meglio gli incontri acquatici per avere delle close interessanti perché i pokemon di tipo acqua ce ne sono e sono buoni abbiamo fatto l'hard play su vullaby e ha pagato probabilmente la rischieremo sempre perché è un 30% per un po' gone così forte secondo me vale la pena provarlo e alla peggio spiro e alla peggio va male abbiamo perso butterfree che il vero dramma è stato perdere butterfree ragazzi il vero dramma è stato perdere butterfree e non prendere la cattura di crab roller ma ci sta sono errori signori vi saluto io vi aspetto domani alle 21 su youtube per il ritorno della monotype coleottero di pokemon smeraldo so che la volete domani esce anche il video del il montage della run di on doom ho fatto anticipare il montage al video narrato perché voglio narrare altre cose e per il resto trovate tutto in programmazione signori buonanotte con questa serie vi ricordo ci vediamo giovedì aspettate che ve lo confermo perché oggi con la programmazione ho fatto casino giovedì alle ore 15 per ripulire un attimino mele mele dalle scorie che abbiamo lasciato in giro e per dirigerci verso la cala dove faremo il secondo dominante che sarà un araquanid ma noi dovremmo avere il volantium z quindi su araquanid non dico che sono tranquillo perché mentirei però abbiamo delle carte grazie e grazie